Ci siamo Guarda la notifica su TikTok Let's go Come promesso siamo di nuovo qui A giocare con la chat Ma magari mentre arrivano tutti faccio la partitina Scritto tramonte Ah c'è anche tramonte signori E allora Con me tramonte si gioca C'è anche tramonte Vieni bro Ti aspetto Mi deve scrivere perché Non lo vedo Aspetta quello che ora si chiama Giugheiz Eccolo Buongiorno Emanuele Buongiorno Samu Bella Pasquale Bella Lupo Tutto a posto Tutto a posto Buon pranzo ragazzi Buongiorno professore Bella Roma E il professor Lupo Bianco E sta chi E sta chi per voi Voi tramonte ci sei Ci sono Vieni Vincenzo Mi tieni tra gli amici Buongiorno Simone Informa a tutti che se non avete sbloccato le armi Ve li trova sbloccate Sì Hanno fatto un aggiornamento in cui hanno deciso di mettere molte armi sbloccate In questa In questa Sì Sono per chi ancora non le aveva sbloccate Allora Buongiorno Adriano Avrei possibile Per notarsi fra dieci minuti Certo Certo Tanto Famo Due tre partite a testa Con tutti Capito Quindi a voi Dopo c'è posto Ma un caldera Mai Bella Mirko Magari vediamo di fare Anche un caldera Però Non lo faccio Perché Veramente Non mi piace Cioè Tre ore per trovare la gente Ti fai due kill Poi muori E è finito Verda scappare Era proprio un'altra cosa Sì si può giocare Emanuele Buongiorno Davide Grazie mille per le 50 stelle Allora Dicevo Ci sei Vincenzo Che entri a volo Sono qua Troppo Adesso sono diventati 18 Ma è sorreggibile Tra l'altro che 4 Te ne trovi 20 addosso Allora Vincenzo vuole diventare amico A un posto Vai Tu ho accettato Travontino Giochiamo con Con due dalla chat Ogni tot Buongiorno 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 Bella Lulita Lulita Che mi dici Come SMC tra Blixen Marco MP5 Blixen Assolutamente la Blixen Blixen Io ho provato L'MP5 di Cold War Ma Secondo me La Blixen Faccia a faccia Ancora un po' più forte Oppure puoi usare Quello che sto usando Io adesso L'Owen Ancora più forte Boom dia Let's go bro Boom dia Now I wake up Ah sei sempre alfa bro E facciamo una cosa Diamo un attimo spazio A chi ancora non ha giocato Fra Poi se non c'è nessuno Nessun altro Entri tu Va bene Perché C'era gente che Ancora non aveva giocato Oggi No Zio Pera Dimitru Abbonamento Fra Bisogna fare la ricarica Team Ti ho accettato Vincenzo Partecipa stesso tu Ti ho accettato C'ho il party aperto Presidente Buongiorno Giocherei volentieri con lei Ma non vorrei Scannarmi con qualcuno No vabbè Vieni vieni Giuseppe Vieni 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 vincete Devi partecipare sul mio nome Fra Io c'ho il party aperto È difficile Masfallo portoghese O è diverso Do italiano Eh Sì No vabbè Portoghese No Non lo intendo Molto bene E lo spagnol Claro Alve Vincenzo Ciao ragazzi Allora E sto jugando con Todos los followers A ora Buongiorno Cristian Buenos dias Allora Fra mi fa vedere lui Adesso lo faccio dire Però anche parlo italiano Buono Un poco lo capisci Buongiorno Buongiorno Giuseppe Mi tieni tra Tra gli amici Che entri direttamente tu Ci sei Non so così bravo Ma va bene No Non è importante Non te preoccupes Non è Non è importante Non è importante Ci facciamo Due tre partite Dos tre partitas Cada uno E Allora No frate Aggiungo Vai Mandami la richiesta Punto esclamativo ID in chat Esce il mio ID Ma nei fratelli Ne facciamo una Dai ragazzi Ne facciamo una Mentre mi aggiungete Un dos tres Un dos Ben Benvindo Che è benvindo Es in portugues Bienvenido in portugues Es benvindo Ah No Tantino Ma tramontino Proprio Un bot Aspetta Mi ha mandato la richiesta Allora Peppe Visto che non aveva trovato Ancora la partita Lo aggiungo Così entri al volo Vai Peppe Buongiorno Buongiorno Peppe A ver Un altro Peppe Che dicevo io Buongiorno Caspari Buongiorno a tutti ragazzi 97 Chi è Chi è Io sto Io sto Io sto Chi Penzo 97 Eh Perché è riconosciuto Che l'ha fatto frate Ha rubato a ca Eh no Cioè Eh no Ah no Sei tu che hai svaliggiato L'appartamento su Perciò l'hai riconosciuto Trabottino Mi ha detto Dumitro Ciao Lucio Buongiorno Ricola Peppe Entra stesso tu C'ho il party aperto Eh Che a me se sta bloccando Ogni volta Non lo devo invitare Poi no Non vedo molte persone C'ho troppi amici Non vedo tutti online Ogni volta No La notifica La notifica La notifica Whatsapp Bro Entra da me Peppe Pazza che fai partecipa Oh mi rica Ma alla fine hanno buffato L'MP5 Sì quello di Cold War Un pochettino Quello di Cold War L'hanno L'hanno migliorato un poco Come sono inaccessibile Devi mettere il Ah eccolo Eccoti Eccoti Ah no C'ho il party aperto Forse il crossplay L'abbia attivato Eccoci qua Obbligato Allora Ups Io tengo Sono qua Trove Tengo la computadora Sto giocando con la computadora Quali assalti Come devi usare O il grau O il chilo NZ ancora volendo Si può usare Poi che ci sta più Come assalto Ehm Come pensavo Ah l'amax Hanno potenziato anche l'amax Il krig pure Il krig l'avevo fatto vedere L'altra volta Fammi vedere se ce l'ho salvato Non ce l'ho più Nelle classi Allora Devi mettergli la La militare L'ultima canna Il silenziatore agency Eh non ce l'ho qua Cazzo All'ultima canna Silenziatore agency Ehm I colpi E lo devo fare dopo Cazzo Sta partendo la partita Però vediamo se mi ricordo tutto Era Silenziatore agency L'ultima canna Field agent La Il mirino Quello là per tre E stiamo a quattro E l'ultimo il caricatore Vai Mo siamo quattro Ci facciamo due tre partite così E facciamo cambio Lucio Se ci sei dopo queste due tre partite Entri Andami Andami la richiesta America Bap 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 Alla bamboo Rpg Bli blu blu Come era? Però spero che prendiamo Le stesse lobby di ieri Mamma Com'era il RPG Bra Com'era il RPG dalla roba di socio che è bellissimo a voi raga claro certo certo yonas claro sì sì come si dice aggiungere sul gioco si fa stai Admi No, no, fammi parlare che è spagnolo Se puoi admi Se puoi admi Nel gioco Nel chat c'è il mio nome Se puoi mettere la command Ud! Ah, siamo già amici Ok, ok Ah, ok Put la command Allora, allora No, perché sa Sa anche l'italiano, perciò Ah, porca miseria Dicevo Ah, parlo italiano Ok, ok, parlo italiano Dicevo, facciamo due o tre partite Dopo entri, va bene? Facciamo due o tre partite e noi siamo a quattro adesso Facciamo due o tre partite e poi entri Alla Pietro Sì, siamo arrivati a 800 vittorie Ma guarda tu Non vuoi neanche parlare più lingue contemporaneamente Voi non capite Il next level della lingua è Dire tutte le parole Ma con lingue diverse Tipo ciao Tipo ciao come stas Il ciao italiano Il come stas Biscuits kebab Gente qua Quella ha insegnato il corsivo Io vi insegnerò a parlare più lingue insieme Oh, chi c'ha questi soldi? Spara Datemi i soldi Oh, c'è il chino Oh, ha preso il biscotto I soldi Mi dai i soldi? Sì, arrivo Attenzione Vado, vado, vado Spara, tramonte Un pomeriggio, eh, ma Un pomeriggio a tutti, ragazzi La fare la Mica, tramonte pure ha preso il biscotto Che schifo Vergognati Vergognati È un bot Ma sei un bot Vai a turno Facciamo a turno Giochiamo un bot Tutti, eh Un bot De pazienza Poi se non riuscite oggi Ci proviamo nei prossimi giorni, eh Sotto ho preso nella no tre No, sotto non ci sta Oh, ne ho crackato uno Col bomba, eh Ho fatto Eh, probabilmente ho crackato il tuo Hai mai rubato la guida Sono sopra, mi sa, eh Sì, è sopra, sopra Quanto è bello lo Owen To freedom I su to freedom Qua c'è gente È il mio amico No, non c'è i soldi per il VOV Arriva gente Lo buttate, eh, Luca Ah, grande, grande No Certamente È proprio mio amico Bravo, bravo, bravo E' il culo C'è il culo questo È un altro Lo butto C'era uno qui Comunque bella Giulio Buon pomeriggio Oh ma questo ci pusha qua fuori No, è tornato dietro Mannaggia Ma non si può pusha così Cioè sono tutti sopra B e sopra Chemikal Eh sì Sono dobbiamo andare a Chemikal No, sono sul tetto, vai Ci passiamo da sotto, dai Dal tunnel giù Andiamo dal tunnel Andiamo a Chemikal Oddio Oddio Sono il più forte Vai dopo vi aggiungo, raga Ricordatemi gli ID Poi dopo Quando finisco la partita Vi accetto Ma che sei il più forte? Silenzio Sono sopra Sono sopra E ho capito Io sono ancora incoglionito Sacco Boh, prima partita Anche per me È prima partita, ora Era qua, qua, qua Cazzo, mi è sceso Basta piangere Chi è che sta piangendo? Gli altri me li ha fingati dall'altro lato Ah, quello che hai chilato Ha pianto? Sì, sì No, adesso sono saliti secondo piano, mi sa Sono saliti sopra Ancora sotto Bello, GG A tramonte Comunque ho buttato la termite a voi Vabbè, ha preso me Sì, a me Ha preso anche me da dietro Vabbè Tengo costa coraggio Mondino Boh, io sono full Sì, me Ok, niente C'ho i soldi C'ho i soldi Vado a fare uobi Pronto? Vai, tira uobi Uh, c'è gente sotto Son quattro, son quattro, regà Non li pinga tutto il uobi Non fantasma Ho quattro, beh Ho quattro, beh Ho pe Un a terra, ho pe Aspetta, avevo sentito No, no, no No, no, piaci Eh, no, no Vai giù Montanaro Non sta qua Mamma mia, bra A casa A casa tua Il tramontino Non potete come l'altra roba, eh Però andò Vabbè, la Cirillo Pezzo di fango Vi lascio i soldi Vi lascio i soldi Bisogna prendere Sì Con chi bisogna prendere Il numero? Con me? Certo Bisogna fare la coda Come all'Inves Bisogna prendere Il numeretto all'Inves Alle poste italiane Si Pusha Ah, è pusha, pusha Quanto sta? Io sto a sette Sì, ma sono rimasto Watch rua Salute Sono rimasto Cioè, sono undici qua Fra, già Il lobby Andiamo Ma non puoi scuotere la lobby così Si ha buttato, mi sa È sotto Sì, sì, sì Guarda dove sarà infilato L'altro è sul tetto, credo No, è qui da me Ciao Io sono andato Tra, è stata Ah, tutti due qua Vai, vai Vai, se ti piace quella canzone Ammerai la mia prossima Certo, c'è un'altra Oh, oh, oh C'è, 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 c'era L'altro di fianco, eh Oh, sarei stato uno sotto? O sbaglio No No L'altro lato Vabbè, la fate Eeeh Signori Signori E che è successo Manca l'ultimo Davanti a me arrivo a noi parami se lì manca l'ultimo dove deve essere da te tra mo perchè me lo hai in volo dai dai apri le tende è mio se sono rinati anche gli amici oh my god bella fa uso po salve ma che la scoteca c'è pure beps a borta raccato cazzo caccato l'altro è sopra niente guarda quello lì raccato per quello mi interessa quello che è fuggito di qua non sopra di me deve essere non è qui sotto tipo no grazie la porta la porta e la gioia che si dice su quattro gioia si gioco anche oggi questo qua dai 22 fra è tornato anche di nuovo l'amico palle headquarter se si è qui e sulla torre dentro ecco dentro ecco qui c'è una macchina hanno arrestato sono diventati 3 adesso dai oh questi non vogliono perdere la partita ecco qui sotto sotto sono tutte e 3 sotto oh ma infatto ma infatto fatto 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 oh no no non me l'ho killa non me l'ho killa che l'ho messo a one shot sei sei prima subito così a bomba allora mi dice giuseppe dici a peppe crezi che è un bot mi ha cognato eh sì sì buongiorno antonio capilonco buongiorno a tutti allora si vola subito prima vittoria con peppe crezi un bot no no mi dissocio ormai ho fatto bello adriano ciao vorrei giocare con te allora oh signore abbiamo fatto tutto il nostro sta partita allora ragazzi cos'è grau si sono luigi sto usando il grau allora ragazzi l'ho detto appena boh abbiamo fatto una partita ne facciamo altre due noi quattro così come stiamo poi si liberano due posti ed entrate voi iniziate ad aggiungere voi aggiungetemi regà aggiungetemi punto esclamativo di esce lì il mio nome praticamente del gioco e aggiungetemi io vi accetto e poi facciamo un po' di cambi facciamo altre due partite così ed entrate eeeh c'era rocket l'ha detto che mi aveva aggiunto mi ricordo in chat mi ha scritto quindi lo aggiungo poi fatemi sapere i vostri altri nomi regà in chat che vi vi accetto certo certo allora aggiungimi vabbè aggiungimi come ti chiami come ti chiami lucio come ti chiami io ho il party aperto poi finite queste altre due partite entrate brian o connor vediamo se vedo brian o connor io ci ho visto cioè uno è solo il tuo incubo non so se sei in chat se mi hai aggiunto ah ok eri tu rocket perfetto io devo levare un po' di nomi qua in mezzo ragazzi troppe richieste ah ok siamo già amici perfetto allora basta che entri e via ah tu sei il tuo incubo perfetto accettato eh il comando non ho avuto il tempo di crearlo me l'ha spiegato me l'ha spiegato Esther come si fa lo devo fare non sono riuscito ancora a farlo lo aggiungo dopo va bene va bene dopo quando mi aggiungi ricordamelo in chat si parte signori vai per i 15 e già va bene andrei basta che entri voi nel party tutto a posto bella lupo mandami la richiesta Alessandro o me l'hai già mandata io voglio giocare con Rizio 50 euro per giocare con Rizio oh io l'ho salvata con la live di ieri che Befs fa lupo siamo due contro quattro se vinciamo è sconuto per la città io l'ho salvata io l'ho salvata io aspetto il video suo oh ieri praticamente stavo giocando con i sostenitori mi fa Befs quel pezzo di fango mi fa oh vedi che eravamo due stiamo assaltando gli altri quindi ci siamo fatti una partita in due mi fa oh vedi che siamo capitati due contro quattro noi siamo solo io e te se vinciamo la partita è sconuto per la città il resto è storia abbiamo vinto la partita in due al momento almeno dopo giorno Roberto sto usando il Grau con l'Owen signori veramente l'Owen soprattutto molto forte a lupo che cercavo sull'altra piattaforma no sono qua io sono qua caro sono qua perché ma già da parecchio da quasi un annetto sono partner qui l'amministratore certo l'amministratore per forza è caro come lo vedi l'amax c'è Cirillo in teoria c'è Cirillo Giovele sta al lavoro sicuramente come lo vedi l'amax l'amax buona cioè nel senso l'ho provata da terra da uno che avevo killato cioè fa parecchio male però rincula un pochettino eh eh sì ma va per la brother quando ci scontriamo di nuovo spero spero mai ah c'è Giovele oh mi sa che si è buggato si è buggato facebook no no adesso ho visto che è scritto oh non va a terra dai che devo fare per farti andare a terra io dove mi ha accampato con una pista mi ha accampato dove stai tio mi ha fatto marty povera madonna madonna mi ha detto madonna madonna ma non è che si è buggato zia Giovele l'ulita dice che non riesce a vedere i tuoi commenti mi ha fatto il lancio raga abbiamo giocato ok random l'altra volta siamo buggati il lancio riusciamo a farlo raga eh hanno fatto qui il lancio eh sì giustamente se non lo chiedi la prima cosa che pensi è dall'altro lato perché dove stanno tutti no mi hai rubato la kill bot vabbè sto venendo da voi uno si è lanciato col paracadute se n'è andato da chemical stavolta adesso fa una brutta fine lo sapevo t'ho visto in difficoltà eh sono tre e lo so se aspettavi un attimino stavo arrivando io col paracadute oh ne esce un altro dandess'inferno questo ma andiamo tutti si hanno nel fatto l'nz ma ancora usabile antonio si fa ancora usare ragazzi facciamo la ragazzi ma quando fai 518.000 al mese pur dire uno le piastre chi l'ha buttato so non te preoccupare è tutto calcolato l'ho buttato io c'ho un team qui da me andiamo a spagarli oh guarda questo ma che mi l'ha rubato questo no io non io no 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 mi dissocio mi dissocio anch'io questi stanno stream snepperando che sono arrivati qua sui italiani il secondo me l'hai rubato beppe mamma beppe sono due beppe state lontani da me sono di napole normale no no vabbè bello sta qui sono di napole è ma tramonte della romania poi se t'accorto te lo trovi dentro casa ci sono buttati ma stanno sul tetto vieni tra oggi corri corri guarda come corre fra c'è una playstation 5 corre più di me ma troppo 2 2 2 2 a terra 2 a terra l'altro in dentro in dentro vanno oh 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 no smirato arriva un altro da fuori arriva un altro da fuori mi confermo spara spara aspetta hanno buttato la mina oddio no la mina la mina porca miseria non c'è sto a capire niente dove cazzo sono nello fatti tutti i tre bro no diocane no 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 lui intendeva quello la che si che si adorava in Egitto lui intendeva quello basta sgamarmi le kill porco zio no non sono stato io mi dissocio mi dissocio c'è sta vabbè c'è un guab al carrello prendetelo regà lui intendeva la divinità egizia signori bebs mi apro io ho una pagina oef e carichiamo il video tu lì oh che succede ma da quando c'è stan tizio lì camperato fra che t'ha fatto aspetta c'ho l'idea u fatta che ma quanto è bello il grau arrivo 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 altro altro ci sono ci sono è carissimo è carissimo cazzo sono arrivati in ritardo ho killato due a id quarter e poi sono dovuto salire c'è gente ancora dentro id quarter datemi la mano mannazza zizzo donnarumma guarda quello oh con due helpmi hai bisogno di una mano ho portato un bambino oh chi è arrivato chi è questo guarda con l'altro oh oh cosa erbendino vabbè basta bucio no way che sta succedendo la skin del grau dopo controllo mi ricordo che progetto è lanciato eh c'è un cecchino oh arriva qua di capo alto sono state in tre wow bravo una serpentina mamma mia il grau è bello casa nona sono ancora tre ma eh è bello eh zii è incredibile one shot qua alle scale eh fra ma ha sciolto anche a me non so quanto c'è normale no non citta dai bro io c'avevo anche i poteri d'arresto sull'owen ma ma vabbè c'è ci sale uno ci sale uno mi sa è salito è salito un altri headquarter tu di là no che c'è che c'è no 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 adesso no no si ho mangiato già ho mangiato già lascialo alla bro eh guarda dove cambera questo qua nice camping bro fatto faccio due normale esce il terzo eh no way ma buongiolo ma buongiolo allora in chat preparatevi in chat preparatevi ci stanno già altri due che possono entrare subito si regalo wow è tornato forte ci dovrebbe stagione pure uno da dietro sono due sono due dentro la mensa no uno davanti contro ci stagione 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 c'è doveva entrare sicuramente lui ciao apr buon papariccio buon pranzo buon natale questo è andato sul lancio ci sono altri tre da me oh no non ci credo oddio 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 è rimasto uno ero lontano tra due fatti di territorio guarda guarda l'uzi comunque non mi piace peccato vai restatemi sono due sono due lì c'è il shop c'è il shop aspetta fallo giocare sono due lì aspetta dai un attimo c'era l'amico eh avendo complicata del grau adesso ve la faccio vedere raga ve la faccio rivedere quando torniamo in partita no sono sono una marea di loro sopra il tetto eh sono tre di loro bravo Peppe sì 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 l'ho visto ok ancora su just be eh no la marco come ce l'avevo saltata anch'io ah peccato bravo erano quelli che ho fatto io tutti i tre lì dentro fra so just be ma ha rotto le scatole fra non sbaglia un colpo stava a 15 lo peccato ma poi sono contro di me non sbaglio un colpo c'ha 5 kill guai pensavo quante ne avevo cioè io c'erano 15 queste ne ha 5 guai ma ha fatto due due kill su di me non sono riuscito a killare una volta l'ho beccato due volte ma ha killato tutte due volte boh boh e poi non fa kill cioè su 5 kill levane due su di me ne ha fatte tre se cosa non le capisco allora cosa succede cosa succede allora ragazzuori no si è bloccato tutto annaccia tutto ah ok ci siamo allora Jonas Jonas mettete entri los amicos mettete entri los amicos e si si chiede se puoi potesse joinare se vuoi puoi entrare Jonas ci sei dopo quando vuoi esco e mi dici eh facciamo un cambio adesso ragazzi dai facciamo due partite a testa che sono sono tanti in chat dai posso grazie mille di nulla ragazzi dai alla prossima ciao lupo bella bella allora aspettate un attimo raga chi è entrato mo perché doveva entrare doveva entrare Jonas e non mi ricordo sono io ah sei tu Jonas si sono io io non parlo in spagnolo solo l'italiano ah ok l'italiano è migliore un po' ah va bene io ho imparato da solo faccio alcuni errori però ah grande grande però da vabbè da solo imparare grande non è facile si da solo solo ascoltando contenuti italiani tu hai live ah vabbè grande grande dai poi piano piano viva basca viva barcelona vedi po' cosa viva basca viva barcelona viva barca non lo so cos'è visca visca non lo so neanche io ma come non lo sai spagnolo bra catalunia no io sono brasiliano lui è brasiliano brasiliano golazao robinio si golazao robinio allora mo se sono entrati già altri due regà facciamo due partite è entrato maestrale che se mi ricordo bene è un ragazzino lo facciamo giocare dai è un ragazzino facciamo giocare lui facciamo giocare l'amico brasiliano facciamo due partite e poi entrano lucio e roberto facciamo così e allora i prossimi tenetevi pronti tutte e due lucio e roberto entrate voi due non mi ricordo maestrale quanti anni ha tipo quanti anni hai maestra comunque viva brasil viva brasile viva viva le brasiliane io vado a parlare un po' di portoghese per la lulita ascoltare un pochino di portoghese so per la l'escuta che la fa lo chicheria escoltare portoghese parecce che la fa lo portoghese maestrale mi risponde ho bischof kebab no vabbè totalmente è totalmente un'altra lingua è diverso no no non è tanto diverso io non penso di essere diverso no no con lo spagnolo è diverso con lo brasiliano io ho mai stato in Italia non ah ma tu se vivi là ancora sì sì io abito a San Paolo San Paolo no Tramonte San Paolo San Paolo adesso è 350 di ping ma do andiamo davvero ascoltare l'italiano è la cosa più bella del mondo incredibile grandissimo bra grande stima viva il brasiliano dobbiamo andare Tramonte devi dire viva la gnocca viva la figa cheat Tramonte viva la figa va bene da Tramonte non si può dire ma come non si può non si può ma Tramonte è proprio guarda vergogna di Tramonte allora si vede un po' male la mia web come oh 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 dove altre due dove io c'ho i soldi oh mi è passato uno davanti ah guarda lì è rimasto one shot mamma mia che aggancio e anche mi son girato l'ho visto subito cheater cheater oh allora ti dico è successo che mi ha detto mi dissocio ha detto qualcosa non ho capito cosa ma è tornato forte il Marco di nuovo eh mi ha detto qualche parolaccia non so più giocare quindi volte che il vino e il muro devono risolvere eh si ci sta a volte i server non funzionano bene vado a fare il lancio raga vai che vuoi eh c'è gente però mi serve una mano un francese un francese che baguette è baguette bro nooo cazzo a terra maestrale c'è uno qui c'è uno qui uovo sotto di te ah sopra sopra vai a terra sopra è sopra uo 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 nooo madame uo 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 cazzo di francese che gioco quello più che al contrario uo 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 ed che sta succedendo uo uo c'è donna qua non ha visto il patto uo maestra Oh maestra Ma non parla maestra No mi sa che non c'ho il microfono Chi è sto cane? È da uovo Allora chi sta sparando Quello Mamma mia attenzione tramontino Sto volando Vai 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 tramontino C'è un altro? Sì A terra Una mano Una mano Vai Una mano rapido 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 Sorry non t'ho visto No no E non t'ho visto Let's go Let's go Lui dice let's go Porco signore Porco No No aia Ha preso il lucecchino in testa Vabbè ci sta Lui dice let's go Let's go E ho capito Che frano Non t'ho visto che stavi Senza Grande maestrale Mi ha restato Let's go Dobbiamo andare via da qua Comunque che diceva Visti Beppe Grizzi Che è bravo Il cartone da PS5 Ho visto Ho visto Ho visto Fa il Se la cava Se la cava Però sono sempre 4 Sono sempre 4 Beh Ha fatto Bello giocato A fine partita Da prima No Sono sempre Sono sopra Sono sopra Oh aspetta E qui Vado 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 Oh c'è gente Mi spara da poi Che altri lupo Sopra Sopra Sul tetto Mi sa Lo so No mi stavo Mi stavo piastrando 5 secondi Giochiamo due volte a settimana 3 ore la sera Eh non è molto Cioè 3 ore si ok Però due volte Non è molto Tramoso è l'ultimo Pazzo Sto safe Sto safe Sto safe Sto safe Sto dentro Ragazzi Mo arrivo Arrivo Sto prendendo il lancio Sto Sto Arrivando I'm coming bro Vai 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 a prendere il lancio No c'è gente No c'è gente Eh sei l'ultimo Attento No Non c'è Peccato 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 Ma aspettavo che Fusciava questo qua dentro E l'ho sedito all'ultimo Mentre stavo restando Eh peccato Vabbè dai Ci riproviamo Let's go Travontino Ciao lupo Ciao Fabio Buon pomeriggio Benvenuto Buon salve Allora E' mutato tramonte E' mutato tramonte Signore E' mutato tramonte Non mi va il microfono Vabbè non ti preoccupare Non ti preoccupare Dai Non ti preoccupare Vai tranquillo Il set è il tuo Dove lo posso trovare Se sto in chat Puoi scrivere Owen Però L'ho Modificato un pochettino In realtà Ho cambiato due cose Se vuoi te lo faccio vedere adesso Così Guarda a volo Come on them Ma te faccio vedere gli accessori del gravo E' vero Allora Te lo inizio a dire qualcuno a volo Tanto è facile Il Come si chiama C'è sta il La canna è la 26 Ma te lo faccio vedere Silenziatore monoblocco 26 Silenziatore monoblocco Atteriore da commando 50 colpi Laser tattico Non sento più tramonte Non sento più nessuno In realtà Anda Bra Ah vi ricordo ragazzi Che Abbiamo il gruppo telegram Sia Quello lì Aperto a tutti Praticamente Quello di sostenitori E poi abbiamo anche un gruppo Dove io scrivo solo io Poi c'è un gruppo dove Potete scrivervi tutti Tra di voi Sul telegram C'è un gruppo solo invece Per i sostenitori Poi che abbiamo più Abbiamo il gruppo di facebook Abbiamo Mi ricordo più Abbiamo 3000 cose C'è sto Sto su instagram C'è sto su tiktok Sto ovunque C'è sto su spotify C'è sta la mia canzone Su spotify Le mie due canzoni Su spotify Ramondem Forse sarà telegram Io mi fumo una puzzola Raga Allora Dove andiamo ragazzi Dove andiamo Bio dai Proviamo bio Metto il ping No sbagliato Non il carrello Qua volevo dire La monta Mi sa che a telefono Non c'è No Ma l'ha gato Tutti morti No Non morire Frase l'ultimo C'è col microfono Ma qualcuno Graccia il microfono Perché si è bugga Qua volevo dire Qua volevo dire Qua volevo dire Qua volevo dire Ancora gente da me Dove sono andati Ma quello è lì Pocca miseria Saravamo attento Vai Poi ci arriva un altro alle spalle No E' finita la mia arma Vado ma ha messo pure la maschera GG anche ha fatto il lancio No c'è uno sul lancio Due 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 sul lancio Due sul lancio ragazzi Tre 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 Stanno guardando il lancio eh Ce l'avete sotto Sì Sono tre Dai mi serve quel lancio Per andare a pushare Tutto blocca Soprì il tetto Quanti? Ci devono buttare Ci dobbiamo andare avanti Ci sono tre Tre Soprì il tetto Adesso quattro mezza Quanto cosa devono buttare? Che bellissimi Ah ah bellissimi Che un altro sei buttato sopra Sul tetto nostro eh Oh oh GG Come sei girato Zio GG a lui L'OTS è fortissimo Bro Oh il microfono No vabbè Da riprovare l'OTS E' da riprovare l'OTS raga Mi ha sciolto Mi ha sciolto con l'OTS Penso parlare al telefono Non posso giocare E non parlare al telefono Eh devo Devo Non devi Bra l'OTS mi ha squagliato prima Da tre kill Con una mano Porco zio Tre kill con una mano Si è incazzato Chi è a terra? Oh Oh Vai Pure dalla lobby Madonna Torno adesso con una puttetta regamo Torno No ogni tanto ti parte il microfono Prendi i soldi Facciamo UAV Sì ti lascio i soldi Eccomi Ma che è successo lì comunque Oh c'è gente che viene da chemica No l'altro mica l'auto res No non penso Dov'è? Vieni vieni lupo Vieni 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 Ho 20 colpi però nella mitraglietta Ve ne so accorto ora Devo caricare un attimo Maledica Anche questo Maddio santo No non venire più No blixen è ancora molto buono Fabio Blixen è ancora buono Infatti qualche volta perdo Contro chi ha la blixen Perdo Però Lasciami i soldi Lasciami i soldi Uovo Dentro Però secondo me anche l'OTS Waiu Quello prima mi ha fatto Mi ha distrutto Forse anche l'OTS Vabbè ricognitore comunque Quando vendi ricognitore da terra Devastante Vedi dove vanno Mi pare che c'è il wallacchino No mi dissocio Comunque mi sa che stanno parlando Quelli che killo parlano brasiliano Mi sa Stanno parlando una lingua No No? Sì Dai che siamo finiti in America Nei server tuoi D'accordo che con noi Stiamo giocando direttamente Con l'uovo destro Che è dal Brasile Oh Amman Mi bro sopra E sopra se Com'è salto consiglio Kilo Grau M13 E CR Amax Questi qua NZ ancora utilizzabile Ma non è più come prima Sto usando il Grau NZ Ah sono tutti laterali qua Si è buttato Da sinistra Non so da dove Si è buttato a piano Qua di sotto Salito? Andato Ah L'ho smirato Eh vedi Blix è ancora buona Che ore sono in Brasile Mi chiedono Che ora è da te Uovo Lì Eh non ti va il microfono Niente Niente C'ha problemi al microfono Signori Buono Dopo provo un'altra classe Raga Mi è venuta una cosa in mente Mi è venuta una cosa in mente Raga M2 OTS Come i vecchi tempi di Verdask Secondo me tanta roba Dopo la prova E se salva con questo serpentino Dai Meravamo Eh dai Zio L'altro Eccolo Eccolo E' uscito alle tende Io ca Se mai vi manca l'ultimo Mi dissocio Ti sta uscendo da lì Sì Vai 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 Allora Roberto e Lucio Entrato adesso Sono tornato E' tornato al momento giusto Abbiamo fatto un'altra vittoria E sono 3 su 4 Come on bro Come on Let's go Bravo Ti è secondo me E' forte Ma lo voglio provare Ho visto prima Da quello che mi ha fatto con la giocata Mi ha sciolto Allora Eh pure quello ancora si può usare E' buono Però Voglio cambiare Voglio cambiare Perfetto Perfetto Dai Ehi Si vola Allora Paolo Stiamo facendo due partite a testa Dopo se vuoi entri tu Ma faccio due partite con Roberto e Lucio che entrano adesso E poi entri tu Aggiungimi tra gli amici Per sapere come mi chiamo Basta che fa in chat Punto esclamativo ID E niente Ti esce il mio nome Tu lo copi E mi aggiungi sul gioco Mi dici come ti chiami E te lo accetto Allora Ragazzi Dai Adesso Devo fare due partite con Lucio e Roberto Regà Siamo in tanti Quindi facciamo due partite a testa un po' tutti Se no Non Non riusciamo Ecco Entrato Rocket Sei Roberto vero Bella Bella Manca Lucio Lucio unisciti Unisciti rettamente da me Grande allora Sono il tuo Igo Perfetto ragazzi Allora si parte Incubo Sei tu vero Sei tu Lucio Non lo sento Però penso di si Dai Dai Adesso facciamo due partite qua noi insieme E entri tu Ah grande Benvenuti ragazzi Bella Povericio Un onore Un onore Un onore Giocare con tramonte Sì lo so Mamma mia Si mette sempre in mezzo Uh Devo fare un attimo la classe Speriamo di farla un attimo Il presidente è qui Vi dice un saluto Buongiorno Saluto Saluto Ah vaffanmogno Eh si si lo ho visto da quello di prima Mamma mia Poi io lo amavo Ci giocavo un sacco ai tempi di Verdas Con l'OTS Quindi Fai gravo EOTS O gravo EOTS Oppure mo provo Provo a vedere Con l'M2 Io pure quello Amavo L'M2 NZ Blixen Basta Mi ricordo Non ci usava la canna Zio Su No Non ci usava Io voglio Io voglio Provare il DMR Vai ho rimesso l'OTS L'M2 Era con l'ultima canna Silenziatore Agency Il Duget No Speriamo che riesco a farlo mo Allora Che classe ti serve Ah no Dici scusa La mia Sì La sto facendo L'ho fatta L'ho quasi fatta tutta Invece sto vedendo Che molti streamer Vogliono passare la piattaforma di là Eh lo so Lo so E non gli posso Da D'orto Io non posso Perché ho ancora La partner qui Ottica Allora In teoria dovrei averla Fatta Sì 40 colpi Impugnatura Field A posto Vediamo Io sono qua Al momento Fino a Fine dicembre Sono qua Poi valuteremo Se passare di là Allora Torno Vecchia maniera Tramonte M2 Ots Bro No io voglio Provare Dm Aspetta Non è che questo Cittazio Piero 35 No No penso di no No penso di no Ua Madonna Sembra un dinosauro Incredibile Chiedevano Prima Presidente che lavoro fa Presidente che lavoro fa Lei Va a svaliggiare le case Io faccio Il business development manager Che caccio significa In poche parole Come ti sembra Antonello Stai provando L'SMG nuova Provi l'SMG nuova Come ti sta andando Oggi Stai vedendo Erano in live Stai vedendo Eh lo so Lo so Ti dico solo Sto pensando anch'io Quanto fai te In un anno Se passo viola Forse terrò Entrambe Probabilmente Magari A giorni Alferno Vediamo Cosa ho fatto raga Probabilmente C'è un altro C'è un altro Mi ha bussato fortissimo Eh lo so Oh no no Mio dio Oh mi lagga Guarda guarda Qua che sta succedendo Sotto il panico raga C'è un macello di gente Quello assurdo Sì sì L'inviata Fizzbottone Dopo ti aggiungo Pro andò Pro andò Pro andò Qua è da perdascare Che mi aspetti Eh lo so Io poi Vabbè Per un periodo Non ci ho giocato Poi 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 ho tornato E poi ho giocato Con chi aveva L'abbonamento Praticamente Ancora Ancora gioco Chi ha l'abbonamento E chi ha l'abbonamento Comunque gioca parecchio Con me Un'ora L'ora e me Oh Fatto qua Oddio Ho fatto tutto l'arma Fatto questo Oh Una sinca Ancora 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 Panico 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 Pramo Ce l'abbiamo Sopra Salvatore 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 Grazie mille Per leggiore 255 SL Bro Un'ora Un'ora Sopra 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 Di santo Ho capito Di santo Di santo Le kill le fai Più di te Intanto Anche se Non le ha Non le ha Non le ha Ma qua Te devo salvare Hai visto Ah qua Qua Ho fatto Un bene Mo se non andavi a terra Ti cercherò un ruolo Ok al boccione Straccato quello Straccato si 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 No ma a terra Fuoco Panico signori Un altro Ecco l'ho vestito in bianco Vai 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 Hai passato un altro Ok il tramonto si è fatto l'altro Mamma mia che casino Ah è stato quello dall'altra parte No vabbè No mi è entrato uno dietro One hit one hit dentro il coco One hit a terra L'ho fatta io Vabbè signor non ci si può distrarre un minuto in sta partita un macello Mi scuso il microfono Vai tranquillo vai tranquillo Può capitare vai tranquillo Non rendo piacere giocare con voi Grazie mille Vado a procurare una nuova cupia Vai 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 tranquillo caro Ti hai fatto piacere anche molto a me Matt vai a cagare Dov'era l'M2 Ah si No non mi piace l'M2 Meglio il grau Meglio il grau O scioglie molto di più il grau Matt se ci sei stasera forse ci sono io Peccato Adò un macello Va bene dai la rifacciamo La rifacciamo Allora fammi un attimo aggiungere a face bottone La rifacciamo La rifacciamo dai Non vale non vale La rifacciamo La rifacciamo Vai vai Grande Grande lupo Grande Peccato Mamma mia A questa partita non si capiva nulla Allora Eccomi qua Bella Antonio Buonasera Io mi devo prendere una cosa da bere Che sto perdendo Mi sta seccando la gola Bro hai provato il chilo del bullfrog Io ieri Il chilo l'ho provato È molto forte da vicino Però se devi sparare lontanissimo Non mi convince Preferisco il grau Il bullfrog No Non mi trovo molto bene Volevo provare un attimo L'OTS Che ho visto che faceva i buchi Eh lo so Vabbè Ho voluto provare Carmine Ho voluto provare All'epoca Buon pranzo Pietro All'epoca faceva i buchi L'M2 Allora lo modifico un attimo Invece dell'M2 Metto Rimetto il grau Ci sarebbe anche il CRA Max Però è lento A un mirare Metto il grau Allora volata Silenziatore monoblocco La canna L'arcangelo Sottocanna Da commando Caricatore 50 Laser tattico Bomba Ah qua mi manca un perk Cosa non ho messo Ah l'impugnatura Vediamo Andiamo Meglio Chilo grau Io credo grau Cioè io Personalmente preferisco il grau Ma Perché Spara anche più veloce Preferisco Lo uso senza mirino E molto più veloce E comunque fa i buchi 100 in un mese però Perché devi calcolare Che ne fai 6 al giorno Quanto arrivi Se al giorno per 30 Giorni che il mese O comunque Un 4-5 al giorno Le fai Tutti a contro Signori Vai 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 Signori È arrivato questo Quei cazzotti Aiuto Non c'è nessuno Sopra che mi dà una mano Non entra Vatti entra Vatti entra Vatti entra Lo su Oh One hit No ragazzi One hit One hit One hit Ciao l'arma Arrivo Bravo bravo Oh l'helicottero Si è schiantato L'helicottero Si è buttato Si è buttato No 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 Si è buttato Guardalo Buon hit Buon hit Lui Muore Devo ossio Subito 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 Eh vediamo Se trovate Solo di là No è Quello Solo l'helicottero Una lira Vai Vai Ecco Sono in parte Ah io ero mutato È rimutato Sì è da tre ore Che Devo rendere più veloce Però l'ots Uh Cado L'ho preso il tramonte Sopra Sopra preso Non so Proprio Eh lo so Vengo Non arriva Non scende Guarda me One hit Sono due Due con la pistola Due a terra Ah sono due Qua sopra Fatti due Arriba un altro Terra pure questo bro Gli altri sono Di due porta Non c'è il top È arrivato un altro Torre L'elicottero Sopra preso Sopra preso Bro Sopra è lupo Eh hanno dato Sono due sopra Andiamo Bu Un altro Un altro Un altro Headquarter è arrivato ad un altro team mentre... Marsha Star Headquarter ha fatto affettato prison con due, ha arrivato il terzo e il quarto Hai visto? Ti hai visto il pop? Nooo! Ma basta, bro! Non l'ho visto! Ma sei un boss, non l'ho visto! Non l'ho visto! Ero concentrato a guardare il lancio, non l'ho visto, Fra! Ma cosa se... No way! Guarda, pure XM4 non male, comunque... Ah! Mi serve il lancio, Fra! Guarda dove mi ha fatto l'hash! Oh mio Dio! Mi dissocio da quello che ti ha detto Arriva uno, c'è il lancio, il lancio qua! Uno, due! Ma non si capisce, da chi? Guarda, sacargaò! elements comparison N'ora c- Ma cosa si faゅa? Noa C'è da che.. Silenzia! rhymes h Oh, tua alleanza appena rientrato! Vedete se c'è un... Qua dove si è? C'è c'è un... Dove si è? C'è dove lei... C'è c'è un suo... Voglio riprovare la classe dell'XM Vai l'ho fatto questo qua sotto È incredibile che lo stia accendo Sì sì Filippo Gioco ancora con la chat Bella Bruno come stai? Cioè Bruno nel senso rorro Vabbè l'avete fatto voi Intervelle lancia me Andiamo su Andiamo su no Una sola in bagno L'ha fatto l'ha fatto mi sa l'ha fatto tramonto Sì andiamo su andiamo su no ragazzi Attenzione vai vai Filippo Facciamo questa partita un'altra E poi c'è posto e ti unisci C'è un altro sopra di me mi sa È passato un giorno e mezzo De cosa? De cosa? È passato un giorno e mezzo Ecco davanti a te lupo Inscito Oh ancora forte l'XM Sopra il tetto De prison Sto io sopra il tetto E' passato un giorno e mezzo Alla mezz'ora di ieri Che sei già la mezz'ora di ieri? Grazie Fra non sto capendo Mi son perso qualcosa bro Eh lo so che qua si muore dal caldo Eh Carmine dopo entri tu e E' Filippo bro Oh sopra One hit More Oh piccione Eh sono andato dentro in the water Ragazzi abbiamo uno sotto nei bagni Eh lascialo cagare Sì sopra Sopra nuova Eh però ricura abbastanza l'XM C'è piastrello pollo piazza Ma zio ma squaglia l'XM Floppo c'hai piastre? Eh sì sì tieni Eh bambò Bambò pia ti puro i soldi zio Ti compri due caramelle Un gelato L'hanno messo con lo d'out e la living Uno qua Celtino No 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 dove vò? Dove? Oh me ne bravo Oh no Oh no no Dietro al muro Dietro al muro Il cubo Tramonto ci serve una mano L'hai fatto l'hai fatto Pio Eh figlia Alza l'uomo subito Alzami Alzai subito l'uomo compà Quando dovevo giocare? Dovamo giocare insieme Ma quando bro? Non mi ricordo eh Quando dovevamo giocare insieme? Comunque se ci sei Io ci sono adesso eh Non è che io dicevo a un altro Francesco Fra e forse mi sono perso il tuo messaggio E tu pensavi fossi tu Io non ti avevo letto giorni fa Io dicevo a un altro Francesco Mi sa eh Eeeh Eeeh Ma no, vai vai vai, ti do una mano Attenzione che c'è l'altra casa di The Water della Torre Sì sì sì, finghi, 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 attento Sì, finghi, 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 finghi Sì, finghi, 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 finghi No, 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 one hit, cazzo Aspetta che c'è uno sopra, la terra Fuggia, fuggia Sono di vita, cazzo Non c'è la maschera Non buttare tutti i ragazzi Audio Allò entri tra una partita, bro Tartarù, dai di solito Tre, tre, tre da me Abbiamo giocato soccoli volte, Tartarù Dai, dai spazio a Francesco, bro Che non ha mai giocato ancora qua Entri tra una partita, bro Dai, vanno Oh, ma quello squaglia, zio Siamo bloccati, regà Dobbiamo fare un giro strano Dalle tende, dalle tende, dalle tende, no, Luco Eh sì, dalle tende dove ti andai? Io resto, tramonte Wow, sì Eh, bravo, ziazzo Guarda che sto succedendo Allora, lui, c'è lui il suo, lui il suo Vengo, vengo Grande copertura Grande mezzo E' lupo, torniamo, lupo Bella, Domenico, buona sega Giriamo, giriamo C'è gente da me Gente da me in questa casa In questa casa Eh, lo so Te devi cercare di uscire, compa Giriamo al muro, giriamo al muro Giriamo al muro Sì, cerchi di uscire, sì Io sono sopra, sono sopra io Dite che è stronghold, c'è gente, eh? Non credo No, compa, vieni qua, vieni qua Ci potremmo mettere anche sul tetto lì, che dite? Eh, bravo, 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 bravo No, benissimo, benissimo, mi piace Io mi sto qua, eh, sono un po' più avanzato, poi scendo, eh Sì, sì, sì Copro tramonte Tramo, quando vuoi c'ho il bomba Occhio rosso, occhio rosso, occhio rosso Ti dobbiamo dire, ci ho proprio un po' più dentro, alle sopra il rosso E uno è sceso Di lato qua Eh, ma hai detto che mi copri Hai detto che mi copri Eh, come ti copro da qua? Ti copro da un'altra parte Dove io gli ho spara? Dove io ho dovuto spara, scusa, non l'ho visto Ora Era davanti a fuori Sì, 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 devono scenderti Maria, tutti i giornali No, ragazzi, adesso, sono allargati, l'ho visto Rose, vedo a scambio Oh No, mi serve quello dietro al camion Che mi fate Saga, uno ha beccato lì Eh, lo so, però c'è sta questo Che mi viene Guardi, le depite il palancino Sta fuciato a me One hit Ah, non muore, fa Ma muore, mi lagga, a terra E G Ah, fra, ma come fa ma queste sette persone? Non stanno tutte Tossiscono, tossiscono Ma stanno in volo Ma non stanno in volo Pro, no, no, no Che fai? È qua, arriva Eccolo, eccolo Mamma mia, come sgami lo può Mamma mia Nice, no, non me ne ho sott'è niente Sta sopra, sta sopra al tetto Zì, l'ultimo è sul tetto L'ultimo è sul tetto Quanta vita c'ha che ancora non Non viene Avete visto dove Avete visto dove Ha pingato Ha tirato un bomb Attenzione Let's go È morto nel gas Dai No ragazzi Let's go Daie 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 Ah sì Meno male perché Sono fissabile Aspetta Meno male perché Solo fissato E c'è un abile link Eh, non si sa Com'è possibile Che non lo fa cliccare Prima mi sono fatto Un team intero Con l'elicottero Ma zio pera È credibile GG, andiamo Andiamo Vai lupo Presidente Non si lascia morire così Non è colpa mia Eh, avete detto Che coprite sopra Eh, eh, eh Hai detto te Proprio lupo Ti copro io Te hai detto Ti copro io No, voglio il VAR Non mi ricordo Ma che è Ti ricordo Ti ricordo Scami e basta Non mi Non mi ricordo Non mi ricordo Io Si è incazzato Oh ma è mica Colpa mia Io lo coprivo da sotto Mica lo potevo Coprire da sopra Non è colpa mia Lui era sopra Io lo stavo coprendo sotto Comunque Francesco e Filippo Aggiungetemi Aggiungetemi Punto Esclamativo Ed Esce Il mio nickname Mi aggiungete Allora L'ultima insieme ragazzi E poi fammo cambio Vai 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 Ultima lupo Grazie È veramente un onore Allora E quindi Dopo entra Francesco e Filippo Francesco e Filippo Francesco e Filippo Ehm Francesco aggiungimi Filippo Quando mi aggiungi Fammi sapere Fammi sapere Un attimino Capito Come ti chiami Ah eh C'era Paolo C'era Paolo Perdonatemi C'era Paolo Allora Paolo E Filippo Poi vieni tu Francesco È vero C'era Paolo Comunque ogni partita Più di 14 kg No no Entri tu Paolo Entri tu con Filippo È vero È vero Me l'ho dimenticato C'eri tu Dopo di questo Entri tu con Filippo Romi Sto mangiando una 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 Villa piata Della piatineria Com'è fatta Ma a me mi manca Ti mando la richiesta Fammi sapere come ti chiami Che ti accetto Ma l'unità non viene a giocare Che cazzo fa l'unità Non lo so Fatti i fatti tuoi Dico io Ma saranno fatti i suoi Ma dove cazzo è l'unità Madonna se triardano sta lobby Poi dobbiamo andare a mangiare Tutti quanti A casa Di Andonello Si mangia solo Tutti i giorni H24 No vabbè è assurdo Me l'ha inviata? Come ti chiami? Fammi vedere se mi esce Come ti chiami Filippo? Qual è il tuo nickname? Così dopo controllo Perché c'ho tipo 20 richieste E mo non so Ma no Ma la cesta Che Il fatto che è successo ieri È un cretino Ma chi è? Chi è un cretino? Che è successo? Ditemi Il presidente deve sapere tutto Niente Niente ieri Un ha scritto a Lulita Wow questa che voce Che è proprio Una maiala Una roba del genere Nomi di socio Il socio Ma è che sta succedendo? Ma piglielo Ho un entrato ragazzi Ma piglielo Complimento Piglielo Complimento Capito? Per un attimo Per un attimo Eri Belen Per un attimo Oh francesi Francesi Oh francesi Oddio 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 Ho manito a terra Per il presidente Subito Mi butto anche senza piazza Ho visto Ho visto Bravo Bravo rocket Per il presidente Giusto Giusto Così ti voglio Vai lo d'auto Subito Tu fatemi Can you hold me? Nooo Che I am Nino Ciao Nino No ragazzi C'è suo macello qua dentro Ma what? Give me the money Give me the money bro Vate alla lancio Oh ma fate il lancio Gesù Cristo Santo Ed esserò a me dati i soldi Come lo faccio il lancio Orco 2 Lancia la miseria To C'è uno sul tetto No ma l'ha ciecato C'è uno sul tetto di controllo Ma l'ha ciecato Ok Non lo vedo Vabbè vado sotto Con loro Eh vi ChiNIE Passarela piccola qua 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 Io c'ho una da me ragazzi 然ni Catalina Ti voglio Buona Non bisogna Unitasun Unitasun 2 ma hai tesone fortissimo behind me ma we are international stop raga parlate eh cazza piccola ci ha ambushato in quattro apris lady moxie lady moxie lady mossa no 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 sei l'ultimo però sei l'ultimo va bene buon poverice buonasera attenzione tramonto se la porta via wow che adrenalina fra mannaggia raga che sta succedendo ho fatto lady moxie mi dissocio da l'ulita mi dissocio vuole più bene adesso al presidente che a me tutti vogliono bene al presidente io non voglio bene uno pure sulla torre ho visto prison mi ha visto ora e mi ha rotto le scatole no mi lasciatate no che è stato ci sei bufato uno dai però vieni qua ce l'abbiamo sotto eh ma che è sta pastita sta salendo lupo aiuto aiuto avvio te lo può no no chi è sono due bravi bravi no ma che è no ti ha aperto il paracadotto ma che sta succedendo sotto no lo luffo che devo fare devo scendere vado vado no 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 io lo saldo ma questo si diverte a morire qua con noi vaffanculo mi son buttato pure io la festa da sorda la festa da sorda la festa da sorda che cosa è successo lì ma cosa non ce la faccio più ciao da la festa da sorda la festa da sorda la festa da sorda è un altro non è possibile fuori scende tarna non è sped ragazzi mi guarda a terra asco no 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 che cazzo è successo che cosa ci stavo scopando male ma che stavi scopando male cretino mi prendevo prendere la roba sua charme si sta infatti pensavo che è sotto 3 sono loro e palle di una cosa allucinante che la taglia il loro che non lo taglia il fatto che novi di socio d'uso e un bot si a me di quante volte d'occhiato mi sa che arriva sul tetto sopra il tetto freddo e te l'ho chiamato che arrivava sul tetto si la nulla tempo anni secondo non si capisce un cazzo sul tetto dell'altri di quarter altri di quarter sul tetto c'è gente dai scream avete vingato arrivano da noi ragazzi te l'hai sentito lupo a destra cazzo a destra era one shot cazzo non senti bene lupo c'è il cerume nelle orecchie non vuoi stappare tu? questo è da salvare con questa partita veramente non ho capito niente aspettate sai che sono nel bunker lo sa mi sta tusciando c'è un tramontino con un pin ovanza tu 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 un altro porco zia porco fai il topo non arriva l'altro che è un botto No c'è uno con voi C'è uno con voi qua sopra A terra Mi ha fatto uno alle spalle Mi ha fatto un altro No so più di uno Peccato Cosa spari sul corpo Guarda 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 il cretino Guarda guarda il tossichello Il tossico Serto sei il campione del mondo zio Bravo bravo Hai vinto 10.000 euro Hai vinto Va bene Devi fare sempre live col presidente Fantastico Mo ti faccio vedere come ho io l'H4 Samu Allora ragazzuoli Ragazzuoli Benvenuti al Tomorrowland Lupo Festival Bella Lupo grazie Bella ragazzi dai Un bacione ci becchiamo alla prossima La prossima grazie ancora Lupo Di nulla Paolone allora è arrivato il tuo turno Paolo è arrivato il tuo turno Magico Paolo e anche di Filippo Dove siete? Poi dopo c'è Francesco Where is Paolo? I don't I don't see Paolo Lupo posso farti una domanda? Dipende Allora L'H4 ce l'ho settato così Eccolo qua Buongiorno Antonio Son Vai unisci ti stesso tu caro Unisci ti stesso tu nel party Io ce l'ho aperto Se mi tieni tra le amicizie Aggiungici Stesso tu Ok Arrivo Dai 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 Ti tengo già tra gli amici Però non lo so eh Qual è il tuo ID Filippo? Come ti chiami sul gioco? Come ti chiami sul gioco? Allora Fai sapere invitami Come Qual è il tuo ID Paolo? Faze Faze bottone Giusto? Si Aspetta ma ti cerco Ti invito Allora Abbiamo Faze Faze bottone Faze bottone Faze 1 Faze 2 Perché non ti vedo online? A B C D E F F Boh Aspetta provo a riaggiornare la lista amici Spero di aver sbagliato il nome Ti ho peccato Ah ecco sei riuscito ad entrare Mannaggia tutto Mannaggia User 866 Aspetta User 866 Z che te Vai vai Accettato Trovato Non ci credo Sono ancora in grande lupo bianco Attenzione Ah no La madonna Sto aspettando da merda Sto aspettando da merda Sto aspettando Ma Le venti bombe Ancora me l'ho vista Minchia da merda Che hai visto Prima o poi succede Prima o poi succede Adesso Devi registrarti tutto Mettere i cartelloni pubblicitari Tutta la città Zio Ma veramente Evento Ti metto Evento Allora Sì mi è arrivata Prova ad aggiornare user Allora Aspetta è rimasto ancora Sono il tuo incubo Mi senti Eccolo Sì 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 Lupo Ciao Stavo uscendo Ero in bagno Ah Ero in bagno Niente Comunque la partita Quella di questa qua Niente È finita così Però almeno Non l'abbiamo vinta Niente caro Dicevo Di nulla Dai alla prossima Un bacione Prova H4 Come si chiama Come si chiama Della pensione Più lungo Più lungo Della pensione Allora Ce l'avevo Ah il mark base 54 colpi Punta cava Fettuccia Comunque 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 il rinculo Mi sto facendo Sta classe Allora Comunque il rinculo Ma voi l'H4 C'è la build No no Ce l'ho Solo che non mi ricordavo Tutti i perk Che utilizzavo Ce l'ho Ce l'ho io L'H4 Lo sto ricopiando Allora Scattando C'è la rita Usa Ciao lupo Buona sega Buona sega Qui qua l'ho fatta Partiamo Ci siamo Via Build Dell'H4 Ma io sai che proverei Invece No ho messo L'ho già fatto Ragazzi grazie Prova i bastoni Vediamo quanti di bestemmia No io proverei Un'altra cosa Hai presente Qual era Quell'arma La carabina Che aveva Il punto ruolo Davanti Lì Io ho visto Dei video Su quella roba Lì devastante La sparachiodi Se non mi sbaglio No c'è un'arma Con la baionetta Davanti Un'arma con la baionetta Davanti Quello Gli davi un colpo Di baionetta Andavano a terra Fra una roba assurda Gli davi un colpo Da vicino Se non mi sbaglio Tutte le armi Di vanguard Dovrebbero avere La baionetta Come No non ce l'hanno Tutte Mi pare che Non ce l'hanno Tutte Medico lupo Giocava da ps5 C'hava già Due venti Di rato Su robert Mamma mia Io volevo Ah ecco Mattia Allora Scusami Mi era scomparso Il messaggio Mi era scomparso Il messaggio Io volevo prendere Un pad nuovo E so che sei nel team Non ci sono più Fra Purtroppo Non ci sono più Pure la balestra Gombrino Di precisione Munizioni esplosive Fortissima Un colpo Sì Quello pure Ho visto Una volta Uno macchillato Così Buonasera Luca Buon pomeriggio Luca lo conosco Facebottone Amico mio Di COD Conosci Samu? Facebottone Conosci Samu Buongiorno Alex Buongiorno a tutti Ragazzi Ma lo conosco Ahi vai Dopo ti accetto Antonio Allora dopo Entri tu Con Francesco Devo mettere L'altro Questo evento Devo mettere Devo mettere Oh Oh Ma madò Ho beccato uno Fortissimo Fra contro Faceva le mie stesse Giocate Cioè Allora dopo Entri tu Antonio Con Se ci sei Ci sei No Per giocare Entri tu Con Francesco Io c'ho Il sole Della camionetta Fuori Se vede mai La web Ma che devo Fare Mica posso Sta tutto Al buio Vai Tra due partite Calcola due partite Cioè Ti spiace Se metto La live No no Vai Allora Se fossero usare Cioè C'è l'elicottero Da usare Il bombardiere Da usare Fumo Alloppo Quando l'hanno messo Andiamo Prisano sempre Tramonte G6 Io Stavamo Priso Ok Vai Mi sa che tramonte Non c'è Tramonte Che culo Mi ha scavalcato Il muretto La vaffanculo Oh wey Dove Vedere Sta cosa Del bombardiere Sul malloppo Regà Non la sapevo Questo Sta con gli RPG Che da Vabbè Che culo Ma più tardi Lulita Dopo Si vede Che sei cambiato Da ps5 Ebbè Orche Mi deve Errò al telefono Ancora Ma questo Deve ho tornato L'RFG Sopra la prison Eccomi Sono tornato E' tornato Sì Sì Sono tornato Io Sono tornato Sono tornato Una Sguagliata Sopra C'è gente Sopra il tetto Regà Hanno fatto Fez E messavano Per favore A me Sopra il tetto Sì Ce n'è Uno Ma non l'avevo Fatta Fatto Non fatto Uno Eccolo qua Bravi Vai C'ho il lancio Vado a farlo Bella Luca Buon pomeriggio Buon pranzo Granda Granda C'ho pure un pallone Posso andare col pallone Perché lo futi così lontano Ragazzi Mi si è spaccato l'ossicina Mi tirate su per favore L'ossicina? Perché Perché lo Si è spaccato l'ossicina La letta di po Lo si è spaccato Cioè Ti dico che c'è gente Alchemical E che mi ti lancio Vicino all'altra parte No No Annalesi Presidente Non è mai contento di nola Non è che non sono contento Ti chiedo Vai 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 Eh va bene L'ho buttato lì Perché là Stavo più sicuro Ah Ti dovevo Un altro Che segno L'uomo Un'altra arma Forza Eternata E le mp5 Si è E la stavo provando Però Non mi convince Come le altre L'ho provata L'ho provata già Vai ci sono Sato te Erano qui Dove sono andati Sotto 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 da user Sotto da user Un altro da user Vai esce Da dietro Da dietro Ci pushano da arbor Sì 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 Che voglio C'è gente C'è gente ancora Forse qua Sì 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 Oddio Bravo No No Me ne devo andare Me ne devo andare Un attimo Mi dietro Trampanico C'è uno sopra Eh ho visto C'è uno sotto Però c'è Il mio bravo H4 Ancora poco Sopra Sopra Ho fatto uno Col bomba Non ci credo L'ho fatto Uno col bomba Eh dal boccione A 3-4 Basta Sì 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 Ma dal boccione Mi sta a discusare Oh Oh Tervano i soldi Per fare Piastre Non c'ho piastre Non c'ho piastre Non c'ho i soldi Per fare piastre No Minchia Minchia Eh beh L'ho dato il partito Non si vuole Ragazzi ma distruggono Sto gente Comunque Eh non lo so Non riesco a trovare In modo di C'è gente anche Sopra di me Uh Traccato una a terra Fatta quella che ti Morto 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 E team Sono quelli del team Mi accompagnano del team Ma noi ce ne dobbiamo andare da qua Traccato serpentino E mi ha distrutto l'altro Ah rega dobbiamo andarcene da qua Io giro per Decon Eh la madonna La madonna Guarda va 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 Ok Guarda va va Audio Arriva un secondo Fermo fermo Un attimo ora Mi sporgi La finita è finita Devo giocarla con la testa La possiamo vincere Uno l'ho fatto Quello a ping vostro Viola Ok Non ha dato Uno va pusciato sotto Rega sotto Chemical Stato sotto di voi Sì 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 Oh L'ho manchiamato il bomb Sono safe Sono safe Fermo fermo Non ti restai Ok Ok C'è un cecchino qui da me Ok Ok C'è un cecchino Traccato a terra A terra giù la barber Ok Oh Questa è questo qua Questa è meola Allora Quante partite poi entro Dopo questa un'altra è dentro tu Fra insieme ad Antonio Entri tu ad Antonio Dopo di questo Un'altra partita Entri tu Ti ricordi il tuo giù Ma che me ne vado via No 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 In realtà c'è stata uno a terra Merda me ne devo andare Me ne vado 3 ore per scavare al muretto Guarda Un secondo Vai Vattene via da lì Non tornare lì Eh no Il problema è che Non mi posso muovere da qua Devo per forza tornare lì Mi tengono puntato No Non diceva te lupo Diceva user Non tornare lì dove sei Povero è lui Oh cazzo Che devo fare Mi cucino in 80 Com'era il tuo ID Francesco Che non mi ricordo Te l'ho detto lupo Ecco qua trovo forte Cazzo lupo Sono un trattore Mamma mia Mi devo mettere a coltivare Bella Dorian Quante deve Cioè qual è il tuo ID Francesco Non mi ricordo Sei l'ultimo Ma tua madre è una grandissima No 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 Di socio Di socio No Peccato Mi sono incastrato Scusalo No vabbè tranquillo È una proprio Situazione di me Cioè Ma fra Ma tutti Tutta la partita Solo noi Fra Sanno facciate solo noi Tutto il tempo Cioè era un Lobby intero Sono arrivati Quattro team Andosso a noi Vabbè Ma che fanno Ce guardano Ce guardano Cioè stream Sniperano Mi dissocio Lorenzo Mi dissocio Vai l'angelo Buon pomeriggio Che partita Però raga Aspetta Non ha caricato Sempre al telefono Fra Sempre al telefono Ma che fai al telefono Fra Mi spieghi cosa fai al telefono Sto lavorando Ah Sto lavorando Sto lavorando Nel frattempo Sto giocando Se mi chiamano Devono rispondere Perché c'è qualcosa Che non va C'è tutto Che non va Allora Stavo dicendo Come va Non c'è male Angelo Grazie mille Allora Certo Alessia Volentieri Solo che Dopo questa partita Ci sono già Altri due ragazzi Prenotati Che devono entrare Dopo c'è posto Quindi tra Tre partite Praticamente c'è posto Bisogna aspettare Un pochettino No no Stavo un attimo Ecco user Stavo un attimo Parlando fra Attenzione angelo Con le 100 stelle Bru Grazie mille Per le 100 stelle Lui non lavora Lui non fa nulla Fa solo i buchi Assurdo Aspetta che devo andare Un attimo Sei pronto per la win Sì sì A voglia se sono pronto Fra Già un 2-3 Le abbiamo fatte Arrivo subito Regà Devo abbassare la tapparella Perché con la luce Non vedo niente Aspettate Vai tre Chià questa poteva Non essere una win Porca troia Per due cazzoni Campionati su prison Dall'ins della partita Mi ha perso Fotta E io sto volto Il telefono Tutto da sta partita Oh Oh Vedi come si vede Mo Solo che Ti pare che devo stare Al buio Sennò non si vede La web Ma pasta al pesto Una grande birra Fanno male No no Quando mai Frasi Allora Pasta al pesto Tutti i giorni Vivi una vita Con i fiocchi Una birra al giorno Leva il medico Di torno È più di una Sicuramente poi Ti curi tutto Pensa che ieri a me la PS4 Io sono amico del lupo Sono amico del lupo Pensa che ieri la PS4 Si è bloccata nella modalità provvisore Non si sbloccava E c'è un metodo per sbloccarla Non mi ricordo Lo vedi su internet Tempo fa Ho perso tutto Facendo ripristino fabbrica Ma dimmi una cosa Ma le lobby di Borganzi Che abbiamo incontrato fino adesso Sono quelle che incontro di solito Non se Cioè dipende A volte A volte Super tryhard A volte Cioè anche ieri è capitato Qualche partita Dove non si busciavano E' partita in cui Busciano in 80 persone Mi fa un piacere enorme Giocare con te Ti stavo aspettando Da un mucchio di tempo Però Calcola che la sera Verso Le 11 mezzanotte Poi sono tutte così Le lobby Ma peggio anche In realtà Peggio anche Ma non giochi Con la chat spesso Vero? Quando è che lo fai? E no Mo lo sto facendo Quando capita Che ci sono a quest'ora qua Che streamo Che sono più libero Di solito A quest'ora qua Ora di pranzo La sera no Ma ti come infila Yes yes Quando lo scrivo In live Vuol dire che ci sono Sono libero Sono la sera Gioco di solito Con i sostenitori O Vabbè Prima facevo il team Quello il team Quello che facevo i tornei Ah ho capito Dove andiamo? Ok a lui Non si è arrivato Ma io sono Headwater Vabbè capita Angelo Tanto Basta che riscarichi tutto No 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 Eh no M'hanno fatto pure a me Cazzo Da prisa Qua c'è un'altra Un'altra lobby devastante Guarda Tra cattola Porco Tra cattola E lo so che sono da solo contro due Bella Bella lupo Alla gg Mamma che pushata Arriva l'altro Lupo Su Bryson Non si è buttato però da Bryson Mi sa è sotto È sotto È sotto Ancora sotto Ancora sotto E ma arriva l'amico Arriva l'amico Sì sì Puscia l'amico Attento che arriva da sopra il tetto Copri il tetto Copri il tetto Ok se ne sta andando Lo pingamo sopra Eh ma è sfondato con l'h4 Ci crede Eh è forte Oh ci pushano da sotto Da control Sì Ci pushano da control In due Stavano salendo le scalette Tutti e due Ma che cosa è successo Ti lascio i soldi Ce li ho Ce li ho Vado a fare io il lancio Incredibile Eh si va alzò scaricato Ora sono conto Continua gli aggiornamenti È il multigiocatore Ci vuole La scocciatura è quella Ci vuole un po' di tempo Per riscaricare la roba Vai 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 Porco due L'ho visto dopo Tuo Ho visto che fanno No, no, no Tua madre, bellina Mi dissocio Mi dissocio Mi dissocio Mi dissocio Mi dissocio Mi dissocio L'ho preso sotto i cose Sto geng l'ho già beccato contro C'era uno che si chiama Venus Che è l'italiana Eh, ho visto, ho visto Che l'ha fatto? Che l'ha fatto con Polvardo? Sto secco, sto secco, ragazzi Arrivo Ce l'hai sotto, però Sì, sto sopra, sto sopra io Sto sempre, sì Biscotto che buffa C'è pure la siringa Incredibile Che succede? Ma questo è sempre qua 6k Alcuna che mi parte tu prima Lui, qua 6k 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 nel mio borsello Oddio, 2, 2, 2 Aiuto Tramose da solo Vatti, vatti, vatti Canta l'altro loadout di continuo Ma perché? Wow, 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 wow Mamma mia Pienga questo tryhard Io non c'avevo più altre Vedi Mamma mia ragazzi La prima, la prima Non mi interessa quale Non so se è lui Non so se è lui Sincero, Antonio So che un certo Venus giocare con lui, ma non penso sia lui, non lo so Attaccati! Venus! Questo l'ha fatto prima, l'ha fatto prima l'Ultra Mamma! Eh, un'altra arma! Porca! Uh! Un'altra arma è lo stunner Ah, lo stunner si si portava tempo fa Guarda, guarda, sto safe, sto safe Oddio, non fare lo stunner! No, no, no! Vabbè, è assurdo Sì, io me ne vado, cioè non ho le piastre Dimmi che te la sei vista, che trago Mazzito, io non c'ero Mamma lupo Non ti sei perso la scena Ci sono andato io per ammazzarti perché non c'erano piastre Dai, dai, non mi puoi prendere, impossibile Capiccicati come le merde, vare In quattro girano E uno Girano in quattro come i gara... no! Tutto preso Qua Qui da direzione qua Non so un quarto Niente! Lasciate perdere! Ma che è questo casino? E' il lupo Ah, lupo! Stai facendo il caricazzo o cosa? Io non sto facendo nulla, fra Mi sono messo, guarda là, guarda Torro, 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 torro Torro Mi sono messo con... Così, così da nulla Mi sono messo con l'elicottero, zio Trrrrrr Ah, oddio Ne ho bloccati quattro su prison, bro Dove? Ah, sono morti Ma chi ti ha preso, lui? Eh, stanno quattro su preso Gli stavo sparando con l'elicottero Ah! Aspetta, vediamo se riusciamo a fare qualcosa, va Però era, eh A volte mi dico, la giocata la riesce Quanto manca? Questa partita e... E ci siamo Questa partita e poi ci siamo Manca questa partita Beh, la Carmine, eh Stai pensando che mo' tra gli ardono pazzi Il, per Dio Il Vinavil Un'attaccata... Un'infiltrazione Il Vinavil Attaccata la mina? Un'infiltrazione indiana, per Dio Dove? 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 Sotto ha preso Guarda, dove? Vedi che... Sotto, sotto, sotto Sotto, sotto Sotto, sotto Sotto, sotto Sotto, sotto Sotto, sotto Vengo, vengo, vengo E che vieni, zi Poi ti faccio un walk via Ti faccio capire come stanno messi Oddio Due fatti Dove? Dove? Fatti Ma te giochi tutto il tempo così, Fra Non ti hai cambiato nulla in due anni di gioco Se io ti vado a pusciare, faccio due Questo è scemo Questo è scemo Stavo con una piastra fuori A prendere il UAV A tirartelo Ma sei rincoiolito Ma sei rincoiolito Ma sei rincoiolito Ma non stavo con te Come cazzo ti do una mano? Perché non guardi la minimappa? Ragazzi, ragazzi, ragazzi Per favore Due Mamma mia Ma pusciare da solo e se la via con me Ma no, ma le ho fatte due Basta solo con me Fatta una, fatta una Manca due Sono sovracontro gli altri No Ti ha buttato uno, sei buttato uno sotto? Si, si, si Ho fatto, ho fatto Ho fatto, ho fatto Mi sto davanti a te, bravo Bravi, bravi, bravi E altri qui, e altri qui Siamo 4 contro 4 Sì, sì, altri lì Per dire finalmente Un fight Uno versus uno Perché Ho fatto solo un fight Uno versus quattro sono italiani ma adesso ci buscano ancora mi chiamano ma devastante 9 498 gg tutto il tempo alla fine l'hai dato alla fine buono 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 però no no gg gg è una robin bella tosta questa allora dai ragazzuoli allora prendi prendi la serie x molto meglio a che non era me il presidente ci sta ogni tanto si sclera allora nazionale evento nazionale pronto pronto c'è nessuno pronto sono usciti gli altri italiani allora antonio e francesco vai entrate preparatemi buongiorno bomber come se tutto bene angelo carissimo buongiorno buon natale buona pasqua te l'ho detto che vincevi laurent guarda si e vieni vieni francesco vieni 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 ok è successo sono crashati tutti zio non crashati tutti vabbè bisognava salutare user allora vai vai entra francesco entra antonio a ti devo aggiungere brano connor brano connor eccolo qua aspetta che ti mando la richiesta alessia mandami la richiesta anche tu per dopo punto esclamativo id in chat esce il mio id c'è laurent io dico non potresti iscriverlo sempre invece di gufarmi sono di napoli marco allora brian o connor il cornetto mi è uscito da solo va bene era per salutare filippo che adesso cambiamo e devono entrare francesco e antonio tramonti sta a telefono non si è reso conto che gli è crashato vediamo che vengono oh mi dissocio mi dissocio lei chi è? lei chi è? ma lei è quello del francesco roma? naggia la misera mannaggia è entrato è entrato con la canzone dentro zio non boh non si può sentire la canzone live bro almeno non su fb mannaggia aspetta mi ha scritto tramonte ah mi ha buttato fuori aspetta un attimo mi ha scritto tramonte allora manca solo brian o connor ti aspetta che ti amo forza sempre forza napoli marco speriamo quest'anno che vada bene ecco dimmi tutto ma tramonte è quello che gioca sempre con te? si era il team che avevamo su verdas quando spaccavamo tutto eravamo io e lui frost e predator ah me lo ricordo me lo ricordo tramonte eh ha cambiato nome mo si chiama jujitsu qua uh oddio pronto pronto minghia è entrata la squadra di pallone ma non c'è martina smeraldi qua dentro signori eh non è che allora si sente eco che è successo scusate aspettiamo un attimo tramonte che sta entrando che l'ha buttato fuori ok tutto a posto vaio buonasera buongiorno ha detto oh salutamelo mi ha detto tramonte aspetta non mi fa entrare aspettiamolo un attimo sta facendo aggiornamenti oddio che casino bro eh si penso si allora andiamo un attimo un po' di tempo a tramonte fra io vado a prendere una cazzosa al caffè la cazzosa al caffè eh yes yes si che arriva tramonte mo dai 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 alla prossima volta che gioco di nuovo a quest'ora vediamo se so vediamo se sono ancora on non penso però perché tra un po' devo andare quindi alla prossima penso di nulla di nulla bella face che ne pensi di io ancora non ho visto gli ultimi acquisti raga che mi devo un attimo guarda allora eccomi eccoci qua chi è napoli 081 leggi il nome del ragazzo a proposito aggiornatemi un po' sugli acquisti che ha fatto mol napoli ultimamente ma solo Kim eh Kim no ma no ma sono cazzate le cose che dicono sempre bla 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 ma potrebbe solo venire perché non sta giocando là si ma no no ma non penso che torna ma pure io non penso allora aspettate che tramonte è riuscito a rientrare mo lo invito ma mi sa eccolo pezzo di fango allora io ho richiesto la mandata come ti chiami flaggei si però ci stavo giocando di meno ultimamente perché di solito facciamo i torni su revert quindi no mi spagliatissimo meno 100 euro inizia con la F eh troppo facile così gliel'ha suggerito gliel'ha suggerito troppo facile così guarda che sta e l'ha risposto no ho sbagliato altri meno 200 euro altri 100 euro vai sei ma 200 euro ogni pensi che ecco la F mi chiamo Fabrizio, Francesco, Franco ma l'ha detti tutti vabbè fai il mutuo o fai prima ma l'ha detti tutti tranne uno Flavio Flavio come breatore come breatore bravo vai mi sa che ti ho accettato Alessia tutto bene qua no non va bene zio non va bene ci manca il butta fuori sì sì mo sì allora magari hai visto un gioco della vita va a posto ma al che vada si fa il gulag vabbè a posto a posto sto accettato è tanto tornerei subito a giocare all'H24 penso che giocherei quasi mai qua sopra forse con giusto qualche partitina ci sa però perché non la fanno la rimettere eppure sono parecchi che iniziali non la rimettero perché poi dopo nessuno va a giocare il warzone nuovo però potrebbero fare che magari la rimettero per qualche settimana o a minimappa sì oppure una minimappa buongiorno buongiorno buon poveriggio Roby io andrei a mare un tuffetto va a fare eeeh guai il solito dai è preso si va si va lì si prende schiacche si cambia partita no basta no devo traiardare vieni vieni a trovare il lobby Federica sotto sotto uèh Tommy bro grazie mille per le 50 da a da vieni a vieni vieni a l'ho fatto l'ho fatto che credevate farm facciamolo d'auto che sentivo altri pass però di gente la taito no vado a fare il lancio il suo uno sul boccione attenzione sul boccione anche che gna gna signor domenico faccia entrare faccia entrare butta fuori faccia entrare non sembrano 100 si entra solo sul boccione regà non riesco a far lancio si entra solo si accompagnati e i tavoli devono essere visti maschi e febbra a brian penso no avevo letto brian come ultimo nome allora no è tramonte che se l'è presa mi serve copertura mi sta sparando da sopra il boccione non riesco a farlo che cazzo ancora sul boccione si a terra 1 ce ne so due dai brian o gonnor lì sopra questo si è lanciato lo sta restando ozio perone mo vado e muoio vedere tommy a 3 sto salendo bro vergognato no ma però l'avevo craccato il gg mi sa allora tommy grazie per le altre 50 bro non voglio beccarti in lobby e dai è così divertente non lo so no no sul boccione sono da solo oh na 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 eh sfiga si l'altro si era restato già e verrebbe un wav oh na 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 oh che ha fatto si è mutuato cioè è tornato sopra oh saura ho fatto ora tutto ah alto è sceso tra l'altro sopra sto scendendo ce n'è un altro ancora ne vinga eh altri due mi sa sono sopra no no c'è un altro c'è un altro guarda guarda sta sparando all'eternal no no sopra il tetto ah sopra tutto bro ah ok salgo no riscendo no 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 sopra è impossibile a stare eh stanno sparando da harbor quello con l'elicottero eh si sparano da harbor vabbè ma come fa da harbor a prenderci fino a qua giù no ma sta nella finestra dietro harbor ecco l'ho visto sta qua eh federico ho disattivato ho disattivato le mie abilità mi distrai federico oh ma quello con l'elicottero ma lagga ma che cosa sto vedendo aiuto oh no 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 ma forza puttana oh l'ulita costanza è ancora là quello aiuto dove roberta dai dobbiamo creare il gruppo sono lupacchiotte no vabbè da sopra prison no oh l'ha usciato eh è qua sul sulla montagnetta craccato morto il mio oh sono tornato dietro per forza sto parlando dal telefono eh lo so che sei ancora al telefono il fall center è meno impegnato di te no 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 oh mamma non lo vedo non lo vedo ma nemmeno io voglio c'ho le foglie davanti eh vabbè vabbè vado per sotto va giù però mo mi serve una mano ce n'è un altro qua al muretto è fra eh oh famendrami oddio servono le armi un po' strano eh lo so quello sul muretto è un po' strano eh si colpisce troppo preciso no ma ho visto la giusta ma hai visto chi mi ha fatto mi ha fatto jamie si no c'è jamie si l'ho mi zio si mi ha fatto prima lui che non l'ho visto bro dobbiamo uscire d'acqua dentro eh vabbè c'è uno allo shop arbor questo mi ha fatto una stavano lì sto andando allo shop bro attento attento c'è uno con una o c'è l'arbor o c'è un altro da qua mi sembra una mano sopra l'arbor c'è uno sto entrando sto entrando vai 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 dobbiamo tornare a capical eh dai ragazzi devo andare a capical sinistra ma buon salve gioia fate un uovo fate un uovo fate un uovo ciao gioia oh ci hanno dato un sacco di ragazze in chat comunque abbiamo il gruppo telegram aperto a tutti i follower abbiamo il gruppo telegram lì un pomeriggio sony sony dota il carissimo blues è impazzito ma io sono rimasto un po' indietro sono bombata niente per favore sono tutti subito vedi che conviene sta qua sopra secondo me oh sotto 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 che mica la ragazza ha ambushato sei riuscito a vedere quanti sono eh son tanti son tanti eh ho visto se mi pushano adesso è finito vai 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 non andare non andare non andare nooo one shot sotto eh giocherò bene a due fai dove si eh lo so che giocherò bene a due si sono divisti mi serviva la mano di tramonte sotto ma sta a telefono no io sto sopra ti ho sentito bro ah è sotto zio avevo messo uno one shot l'altro a terra lo so lo so ma mi sparano da due da qui fra ma viene a pusha sotto chemical no vabbè mo aspettateci mo aspettateci inutile no 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 non c'ha senso allora anche io sono nuovo l'ho incontrato sempre in lobby l'ho aggiunto per fagli bullismo che bello sono contentissimo di sentirlo io direi di farlo il gruppo solo lupacchiotte anche i game bene abbiamo fatto varie vittorie l'altro crackato dove sei però però sono belle totte le partite l'avete detto voi bravo ma l'ha detto lui che l'ho killato no io ti ho detto ah ragazzi c'era un altro audio non c'è il carrello zio come da adesso sono lì però tosto quello là no mi serve un attimo io ho le armi mie tipo qua tanto dove un telefono che ti ha fatto la gamberata nell'erba fuori nell'erba fuori che fa bruca l'erba 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 verso hardball sto qua diciamo qua ah forse la bc non lo vedo io dov'è che bruca era entrato allora forse alla skin di rotto è entrato sicuro fra perché non c'è fuori eh no la porca paletta dove sei? quello sotto non è un bot ha hit quello sotto non è un bot è l'amico è l'amico questo è l'amico questo è l'amico di quello che ho killato che ha detto quello sotto non è un bot wow tutto one death me l'ha dato fra tutti eh mo c'è un problema perché sono io contro tre zio o di me arresto o giochi la carta del re gg eh questo è quello l'avevo pure craccato ma zio è impossibile fra hai visto come questo è qua fra questo è un po' strano comunque è impossibile mi ha sparato senza mirare e mi ha preso in testa no ma tutta la squadra gioca così però tutti quanti in testa sparano non saprei secondo me da pc comunque quello vabbè che dobbiamo fare dai facciamo un'altra peccato secondo posto però l'ho craccato il tempo che andavo lui ha sparato anche a terra ma ha preso in testa cioè sparava senza mirare vabbè facciamo così signori come si chiamava cioè era james in lobby bro è vero sto vedendo ora come si chiamava c'erano anche iupmas bro c'era un po' di gente mardok c'era un po' di gente che conosco in sta lobby c'era samu c'era samu no vabbè c'era pure grande uccello mi fa piacere come si chiamavano come si chiamavano questi comunque fra puntavano troppo in testa eh io non mi ricordo il mio nome di uno eh aspetta forse in chat vi ricordate come si chiamava ma pure cazzo cazzo faceva schifo cioè nel senso faceva proprio il mio nome di... forse... come cazzo si chiamava quello ma sono dimenticato di vedere come si chiamavano li trovo omeless possibile boh spiffer spiffer 94 boh omeless comunque faceva schifo la squadra sua faceva proprio schifo faceva proprio schifo puntava tutto quanto in testa puntavano non ho visto il nome zio non mi ricordo attenta ai fili eh aspetta se mi... prende tutta la lobby eh attenta al filo no qua mi fa vedere rega qualcuno in chat si ricorda? tranquillo mamma sto col lupo che c'è gna gna oh che c'è gna gna oh che c'è gna gna si facciamo un'altra partita e poi entra alessia poi se qualche altra lupacchiotta si vuole unire o qualcun altro si vuole unire ben venga eh blu sarmi meta mi sono dimenticato ero un attimo in fight le armi meta adesso ce ne sono varie c'è ancora l'h4 buona l'owen eh sto usando il grau nz si può ancora usare ma da lontano non è più lo stesso m13 il chilo che c'è sta più come mitraglietta non mi ricordo ma non mi viene ma che io sì sto giocando quello grau non male non male solo che non è facile da lontano perché ovviamente non c'è il mirino diciamo che in alcune situazioni è più facile ah il krig pure è vero il krig pure non è male l'hanno attenzionato sì sì sta tornando buono allora facciamo questa ad entri e l'ultimo si chiamava mister black andiamo se lo trovo mister dove sei mister black caro mio bello mio dove sei non mi appaiono neanche nella lobby recente fra molto strano vabbè speriamo di non beccarli di nuovo edb io ti guardo con fruore puoi mi insegnare quale zona assolutamente assolutamente ti portò a fare un po' di vittorie eh tu non c'è neanche qua ci sono però non è come fortnite quale armi vanno livellate addirittura qua devi fare le armi le devi portare a livello 70 e poi devi fare gli equipaggiamenti bella francesco buon pomeriggio testa va di blusa armi meta fra ce ne sono varie diciamo che ne puoi scegliere varie ho provato l'xm4 è ancora forte molto buono come assalto poi ho provato il grau pure forte l'owen l'h4 come mitraglietta l'nz ancora utilizzabile ma da lontano non fa più lo stesso danno ce ne sono varie fra volendo anche l'xm4 squaglia io abito sempre dove abito ancora non mi sono trasferito a dubai purtroppo sempre là sempre là ancora non mi sono trasferito a dubai fra prossimamente qualche volta che ne ha a vedere caffè in la bar di mio cugino eh tuo cugino dov'è che è al bar ah giusto giusto gg ci sta basta finalmente ho finito il telefono dio smadonato di dio basta vai finito basta sul telefono zio tu tu gli devi attaccare la chiamata gli devi dire oh sto colupo bianco non mi chiamare porco zio ci avevo 11 kill giocando con una mano dio cane di dio no beh scusami ho dovuto bestemmiare no ma ma comunque si Andrea si può si può se poteva qualcuno mandare l'invito va bene Alex adesso vediamo c'era Andrea che non ha mai giocato penso con me quindi magari faccio vedere un attimo Andrea e Alessia che non hanno ancora giocato allora dopo questa partita si liberano due posti entra Alessia e Andrea andiamo mandiamo le mandiamo le stelle mandiamo le stelle Luli t'hai visto? c'è Tramonte Tramonte io la devo bannare non dev'avamo control dai control io ti banno una volta che ti faccio scomunicare che cazzo vuoi? ma ho il panico mamma mia ma ho il panico 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 ti abbiamo abbandonato aspetta non prendo i cazzotti sì ma che mi ha fatto non ho capito se era un sospiro o se era un Oh, era un Genesi Oh, chi è? Aiuto La barca, la barca La barca Oh, aiuto Aspetta papi, non ci va addosso, mamma di grida Oh, shakerando Shakerando Oh, shakerando No, no, assolutamente, tanto c'è posto per tutti Vai, vai, vai Ci sei tu, ci sei tu, Alessia Alcuni hanno già giocato Oh, non bavamo pure lì Oh, come suisce questo No, non mi posso concentrare Ancora ti hanno chiamato Sì Raga, vedere, ma ci cucino da tu Sì, sì, sì Sto giocando, devi aspettare dopo Stiamo a mamma, stiamo a mamma Scusi, che vuoi fare? Non sa che c'è uno a destra, lo può Uno che sta arrivando in volo C'è gente dentro contro il macello Guarda, ragazza Uno che gioca a doppio cerchino No, bello, bello, bravo, bravo C'è un altro che ti puscia dietro Vabbè, sono morto Aua, Riccardo Buon povericcio Ma buonasera Allora, che è successo? Sì, ma non si rende conto Che sta sfiorando la tragedia Cioè, che succede? Quale è la tragedia? Perché sta sfiorando la tragedia? Sì, sembra tutta, Federica Federica Pronto? Oh, ma che caccia è lì? Vagyù Oh, vagyù 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 Oh, ma ci attate, znam Udà? Vagyù Buonasera, Riccardo Open, open, open Come on, come on Come tu, go to the win, bro Che che non mi ha il mio nome? Oh, no, non lo so io No, aspetta, aspetta No, sarà la... È la figlia, è la figlia Ecco qua Oh, ma c'è uno sul tetto No, è impossibile Ma è impossibile No, ma dai Mi ha agganciato diretto in testa E non si levava la mira dalla testa Io vado Ci sentiamo stasera Ma questi mi sa che cittano, eh Eh, bro Snap, vagyù Ma hai dato due corti Snap, è incredibile, tra Buonasera, raga Buona giornata Buonanotte, tramonte Oh, snap, 16 kg Vagyù, stava sotto contro Ma puo passi, vagyù Ma per forte deve cittare, tra Ma mi sembra... Questo di livello 30 Mi sembra strano Però, anche se è mouse Però, io voglio capirarti Ma? No, vagyù, città, vagyù, città Vagyù No, vagyù La parallele è città, incredibile No, però forse no Forse è forte e basta Parallele è mouse e tastiera Credo, sì, sì No, tab, tab, vedi tab No, però bisogna vedere snap Quei tab, tab E quello che mi è sembrato strano Fra mi ha agganciato in testa Però, no, parallele è città Eh, tab, guarda, guarda, guarda Tab, guarda, tab No, qua ha fatto normale No, qua l'ha cagato, eh No, qua l'ha cagato, eh Sarebbe luce, vagyù Vagyù, vagyù Sì, mi sa che son mouse, eh Son mouse e tastiera Tu dici? Sì, parallele è sicuro È mouse e tastiera Da come si è girato Forse questo è pad Ecco, ma vada con l'assalto Le tue mille Anche non l'ha fatto Ma vado ma Eh Non mi ritieni Ah, max ed mp7 Per l'assalto Guarda, lo vanno Oh, oh, però ha preso il biscotto Qua Ma questa è Ma guarda Ma 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 Ah, mi hanno scritto in chat C'ha le macro al pad Per muoversi così Ha le macro C'hanno le macro È simile ai cheat Più o meno Le macro sono Sono Non proprio cheat Sono script Praticamente Non so come spiegarlo Non sono rintracciabili Sì Non si possono Non sono rintracciabili Perché non modificano il gioco Modificano il controller Praticamente Guarda che gente Uno deve andare a trovare In lobby Io questi li blocco E questi li blocco Vai con i like Vai con tutto Forza Alessia Hashtag Forza Alessia Andiamo Fammi li blocca Questi Adesso la invitiamo Aspetta che non la vedo on Adesso Ricarico la lista amici Vanno assolutamente bloccati Sti pdf Fra sto parallele Ex mio nonno Qua come si chiama Niente non appaiono I lobby recente Eh guarda Non mi appaiono Boh Non li posso bloccare io Allora Anzi Alessa Se ci sei Prova a partecipare Sesso tu Perché non ti fa invitare Non ti vedo online Donde stas Alexia Comunque nemmeno a me Ti fa uscire Niente Voglio boh Oe sarà un bug Sarà se su Che ne fa Che Se su Che ne fa Che 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 Eh capi Sono on Prova ad entrare Sesso tu A partecipare Perché non ti riesco Di invitare Io Non mi fa invitare Vediamo se ti vedo qua Flomeri No Non ti vedo neanche qua Ti fa partecipare Sul mio nome Aspetta Prova a ricaricare La lista amici Vediamo Come richieste di amicizia In sospeso C'è qualc'altra Che non cosa Mi dai Mi dai richieste di amicizia In sospeso Con Ale Ma Scusa Ti tengo già tra l'amici Forse devo riavviare Prova un po' Mi tagli il tempo Di aggiornare la lista Del lobby recente Eh ma è strano No Pure molti di prima Non me li fa vedere C'è qualcosa che non va Vediamo se Aggiornando Chi posso levare Oddio non lo so Non ci ho fatto caso Però si sentiva Ogni tanto qualcosa Federica Vai vai Ti aspettiamo Ti aspettiamo Alessia Ti aspettiamo Un attimo Ti aspettiamo Ale Allora Federica Devi smettere Federica Basta Basta No La sabbia Non l'abbiamo bene Che Chi è Chi è Negan Che mi ha giunto Chi è Negan Gioco con gli animaletti Gioco E non posso bestemmiare Quindi non mi farà bene No Non posso Mi sa che si sta bloccando Non posso bestemmiare Niente Niente Non mi ha aggiornando la lista Amici a me Chi posso togliere qua A lui non lo conosco Ah ma si sta bloccando Ah ma si sta bloccando a me Non mi fa più accettare le richieste Forse riavviare proprio tu Eh mi sa che devo riavviare io Una volta che li ha visto Eh si anche perché tra un po' vado Non dinomino io È la bambina di Brian Giusto? Sì sì È la figlia di Brian Ah sei tu? Sei tu? Eh lo sai che Fra non ti riesco ad aggiungere Perché mi dà errore Guarda Se provo a fare accetta Se hai buggato il gioco Dovrei riavviarlo Però se lo chiude Buonanotte Buonanotte sì Niente dai Facciamo Facciamo le ultime due partite Con Con Alessia E poi io devo andare Che è tardi Sono le 4.10 C'è un attimo delle cose da fare Ah bravo Ho visto che caldo che stavo facendo Eh ho fatto Eh Più o meno Nel senso che comunque Io sto sempre col condizionatore a palla Quindi non lo soffro Eh come me Sto logando dai dai Sono le ferie forzate fra Sono le ferie forzate Che stavo lavorando Solo che Il mio idolare ha deciso Dopo 8 mesi Di darmi solo 50 euro Alle ferie Oh Quindi l'ho abbandonata Lui Garage Ferie Ma tutto cosa E tu guardati il video Come so io De Tu non Vai dal sindacato Zio Subito Eh non posso Non puoi Ah vabbè Allora niente Fatto buona da penda Non entro nei dettagli Io ho detto Aspetta ma la settimana Più di 50 euro No solo di 50 euro Eh infatti Mi guarda Non ha poco Se ne va solo per quel parcheggio E al momento no Alex Facciamo la La prossima Anche perché io Faccio altre due partite Stacco Che è tardi bro Facciamo la prossima volta Allora Oggi siamo stati veramente tanti Bra mamma mia Dice che non ha una sessione valida No non c'è credo Mi sa che devo riavviare Veramente Eh perché non la fa entrare Sta tutto bloccato Mo bro Mi sa che devo riavviare io Riavvio un attimo E vi rinvito Riavvio un attimo Riavvio un secondo Riavvio un attimo Regà Si è bloccato tutto a me Allora Mentre riavvio Bella Gaglio Stasera giochi lupo Sì sì Stasera ci sono Gianluca se ci sei Stasera fra E io adesso faccio Le ultime due partite E vado Poi stasera Se ci sono i sostenitori Gioco con i sostenitori Plus e sostenitori Perché è un plus De pezzo di fango Allora Abbiamo il gioco Vediamo un attimino E vieni pure tu Dai che sei pure tu Sostenitore Andate a me in secondo Da uno che deve fare Gioca Turuturuturuturutum Tramonte è andato Che Lo stavano tartassando Di chiamate al lavoro Allora Hai capito che vogliamo Streamsneverarti Noi ragazzi No non ho capito E Non voglio capirlo Non voglio saperlo Spero di no Se succede È 50 e 50 O vi faccio fuori A tutte A tutte e quattro A tutte quante A tutte quelle che mi stream O ci muoio O ci muoio io E E cambio gioco Allora Coda nei server Però qua siamo in minoranza Mo ci fanno nuovi nuovi Chi è che ha scritto Siamo in minoranza Ci fanno nuovi nuovi Lupo ci leggi per favore Devo chiamare Capoccione Chiama Capoccione Se ve l'ha detto Alla sicurezza Capoccione Qua Attentano alla mia vita Su COD Cosa mi sono perso A parte che lui vuoi un PDF Niente Beh se vai tranquillo A Staricam No No Fabio Che è successo Più probabile la seconda Che cambio gioco Mi dissocio Bene Ora lo sai Però devi venire da solo Non con il team No vengo col team attaccato Comunque ci mette un po' Avendo problemi server Mi sai Dai dai Guarda lì Oh Come aspetta Com'è una canzone Da 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 Scendi e perdi Che giochi a fare Io Scendo e perdo Non mi pare Vra Ho più di 800 vittorie Non mi pare Che scendo e perdo C'è qualcosa Che non quadra Forse volevi dire Gli altri scendono E perdono Quando sono i lobby Che giocano a fare Mi so Ok In teoria ho riavviato Provate a vedere Se riuscite a entrare Allora Oh lo voi Però mi dissocio Dal nome tuo Cioè quello entra Io non lo posso Manco chiamare Perché Come sto vedendo ora Sì Eh zio Salve Salve Buon pomeriggio Buon Natale Buon pomeriggio E felice anno nuovo Felice anno nuovo Vabbè Eccoci qua Si parte Si parte Andiamo Sto giocando Sto giocando con la chat Bro Ma davvero Si affaggia Marco Sto giocando Con la chat Bro Comunque L'abbiamo fatta Stavo ad 802 Su 808 Ho fatto 6 vittorie Oggi Ah stai scherzando Tacci tua Mi hai fatto perdere un colpo Beh eri serio Fra Sembravi serio Dicevo che è impazzito Ma l'ha fatta Cioè mi ha fregato Mi ha fregato Che armi usi Giuseppe sto usando Vari armi Sto usando il Grau con l'Owen Dove il Poi il Grau con la Blixen E l'altra Aspetta l'altra era qua Owen è ancora buono Sì sì Si può ancora usare Ancora buono Anche l'XM4 Stasera vediamo Perché di solito A quest'ora qua Sto giocando con tutti Dalla chat Se c'è posto Va bene Di solito la sera Sto giocando con i sostenitori E' lupo che mo c'è il team No Ma mica mo Oh mica mi venite Giamo a Diciamo domani Stasera Mica mi venite a Pia Mo in partita La Marco l'ho buttata Eh non è più forte Come prima L'hanno depotenziata Ma va Io mi faccio Game con l'XM4 Va Guarda lì quanti colpi Ho dovuto dare E' il comando per la Blixen Sì sì Pugno esclamativo H4 Fra Attenzione Allora tu non hai capito Lupo che è finita la tua pace No Ma Alessia ma tu Ma tu non ti unisci All'oro eh No Tu ti unisci all'oro No mi so Al gruppo delle lupacchiotte Eh 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 Guarda Tadcia tutto Mannaggia Bebs coprimi tu Dov'è Domenico Mi serve una mano Domenico Mi serve la guardia del corpo Sto venendo Lupo sei finito Aiuto Ammazziamo Raggiù la roba Dall'uamma Ragazzi No Mi dissocio Andiamo No Andiamo No Vabbè Rimane tutto salvato Ok Andiamo qua Siamo Vediamo di spaccarli tutti Dai Oh ma sto parco Sto cucina Stato come Non male Ma guarda terra Non è niente di particolare Dove dove Dobbiamo fare il lancio Però eh GG Mi fa il lancio Aggià Amo cimia E cre Amo cimia Via Cresci un culo Io ci sono Io ci sono Oh non mi cambiava l'arma Siamo vicini Ma da che mi calvuscia È arrivato È arrivato Secondo piano Secondo piano Traccato Ci sono Salvata Ciao 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 Ah non ho corazze Se mi date i soldi me ne scio Sì 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 Mi sa che non ce la fai con mille Te ne servono altre Mi sa No no Mi hanno buttato qua Mi ha messo il culo Mi ha messo il culo Aggiù Sì 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 Voglio fare un UAV Fate un UAV Vai Vai a lo shop Fate UAV Dai corriamo Take me the money Sì Sì Le lupacchiotte hanno preso il controllo della chat Oddio Ci sta capendo più niente Stanno scrivendo un hashtag team lupacchiotte Tutte Ho comprato un UAV Ok Sì sì Oh raga davanti Allo shop Traccato Oh mani E io sono già partito No qui si hanno fatto il lancio qua Sanno due team qua Oh è uscito Oh questo Come? Come? E' due team Oh mi bugiano i 5 Un altro gioco Oh Ma che si nuva anche un Kanguro bianco In V Kanguro bianco pure è bello Lupo Aspetta non busciare bro No no Devo venire non devo venire che devo fa No 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 Aspetta 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 Ah uno è sul tetto di chemical Ah 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 Sanno i go Vabbè senza bura vado Oh 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 Sanno dentro chemical Oh No 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 Ziofera Peccato Era rimasto senza piastre Oh mamma Che doveva È rumore Ah uno appena sali Secondo piano No due due Sono due Fra attaccati Vabbiamo rifare tutto Ma che sta succedendo Non voglio Ma sì Oh Oh Grippatela Che pesca del cam Che c'è oddio Straccato Quello zio Oh era one shot bro No porco due No No L'ho visto pure io No Brian non morire No No Guarda Brian Sono Connor Connor in the car No 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 Ma che cosa è successo Ma che ciotta Come ti fa Questo ha fatto una kill L'ha fatto sulla tua auto Vabbè Mi sono spezzato le gambe Dai dai riproviamoci Dove che eravamo scesi stavolta Cambiamo posto Dove che eravamo scesi Proviamo Sì mi pare A darbore A darbore Sì a darbore Aspetta manca uno di noi Vai Non ci credo Comunque mi servono Gli airbag E gli talloni Ma a me mi danno i paracadute di Wish O aglio Activision Mi sta sabotando No Chi ha messo quel commento Chi ha messo quel commento Fai la scelta giusta Anche tu Entra nel team delle lupacchiotte Scrivi il team lupacchiotte Dai dobbiamo fare sto gruppo telegram Dobbiamo fare Così va organizzate La sera vi organizzate E benvenite a stream Sneverare le lupacchiotte Va bene Va bene Sì io ci sto Dai Lulita Mi fai questo gruppo telegram Lulita Lo fai tu Lo fai tu questo gruppo telegram Lo gestisci tu Così Sarò molto contento Di attaccare tutte le sere E tirare i cazzotti Tutte la scrivania Brian O'Connor E a Mabedea Facciamo sto canestro Dai che c'è il gruppo telegram No ma quale gruppo telegram Noi entriamo in gruppo follower Vi rompiamo le palle Ah Entrate nel gruppo follower Vabbè vedete voi Come preferite Ho il gruppo solo voi Ho il gruppo con tutti Di là Come volete Siamo libere Siamo libere Vorrei essere libero Anche io Da oggi è finita La mia tranquillità Su Warzone Poi penserai Ma chi me l'ha fatto fare A me In momento no Vediamo 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 che succede Ho detto Ho detto voi Non adesso Guardate Noi guardate Non è a te Tu un buon bacchiotto in azione Noo Costanza Attenzione Che ha bombardato Con le 110 still Ha bombardato Team lupacchiotte in azione Soghigno con occhi felici Soghigno con occhi felici Va bene Lulita Allora metti Metti il link Del gruppo Di telegram Ha detto Lulita Già pensa di me Chi me l'ha fatto fare Allora proviamo bio Dai bio bio Va bene Va bene Va Vai sul tetto Vai sul tetto Noo Vai a terra Putta te giù Non ce l'hai andato Ma davvero Dai Che è successo A me questo Lo devo sparare da qua Noo C'è gente Ma se è stato preso dal bombardamento E' già Il bombardamento è mio Ah bene Come va a tirare a me E' morto lui col bombardamento Ma l'ha tirato Sopra o sotto Bombardamento ne vico Ma no no Questo è sotto E' qua E' qua E' qua Questo piano qua Non so cosa potrei fare Attenzione perché Noo Ha detto no Ragazzo Lupo bianco Ma ha rotto Ma ha rotto Proprio Io non ho fatto niente Scusa Lui che viene qua Non ci credo È arrivata anche Roberta 99 stelle Grazie mille Roberta Lupo fai il tranquillo Ma è più teso Di una corda del violino Sì Però beh Se non lo dire Cioè Nessuno lo sapeva E non si notava Silenzio Ragazzi Andiamo a che Amiga Io vorrei far lancio Abbiamo 8000 Facciamo il lancio Abbio C'è il carrello C'è Ah aspetta L'ha tirato quello portato Stabile Chi è che l'ha tirato Sì sì Che amicale c'è uno Mamma Tendo C'è uno qua Ragazzo Non è venuta Tutto Ecco 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 Ma c'è uno qua sotto Sì No è arrivato un altro Vai Fuori Fuori Muori E via Oh è trattato E che la scoteca Eh raga stanno qua E' pieno E' pieno Mi devo piastrare Lo riesci a tenere Tu lì Alessi E' una sopra Oh dio da me Dì da me Fatto E' entrato qualcun altro E' un po' Quanto è finito Ma tu No way Clippate Arriviamo Arriviamo Attenzione E' una chemica Lo vai giù Ma a B Non esce No Ma hanno avuto un male E' gioia Grazie mille per la clip Bro No pieno 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 qua Sì sì l'ho visto Andando per sopra Ragazzi non andano dentro da noi Secondo me Possibile che non C'è la taglia tu addosso E' tutti dietro di me Erano qua al muro Frate Ne sono andati Forse sono su prison No ragazzi Sono dietro di me Vado a controllare Sì ce l'ho soffreso Dimmi che non mi ha visto Dimmi che non mi ha visto Fatto Fatto team Ma vaffanculo Ecco Quattro Zero Ah Che Andiamo Oh No Peccato Oh ma questo lo conosco Eh su prison L'hanno su prison Sei da solo Sei da solo fra Devi resistere 10 secondi Cado Almeno sono perso Quello Ui vice So vice So con la baguette E dopo Che mi hai fatto fare La nottata Ieri Zio Sto di nuovo qua Ma non si apre il paracadute Basta però Dai non è possibile Però sto paracadute di wish No Ma forse devo comprare Un bandolo di 20 euro Per avere il paracadute Giusto Dai Apri le cazze E poi Sono avanti E mi servono Mi servono Le piastre a me Andalo Saliamo da qua Saliamo in cucina Buonasera Giuseppe Tutto bene ragazzi Buonasera Oh vabbè Come è scappato subito GG È andato sotto E bagna Dietro ce l'ho Lupo Sono due però Se sono divertiti No ma no Ma no Oh la dietro La dietro Non veni qua bro Ma è pane Fa zero o vinto No No Ti ha metto il chi lì Dai qua ho fatto l'add-out Vanno bro Oh Una gita e biva Eh mi ha preso prima Mi ha preso prima Di mezzi Peccato Peccato Ho canguro Allora Flavio senti Ma mi vuoi dire Perché quando faccio La scivolata Vicino al mig Vicino di sparare Fai cazzotti Non è che hai cambiato Qualche pulsante Perché i cazzotti Tu potresti mettere Anche col cerchio Non è che per sbaglio Hai cambiato predefinito Non ci hai predefinito Nella scheda comandi E ti ha messo Anche i cazzotti Sul cerchio Sono paragatuti francesi Perché i paragatuti francesi Compulsionano Zio Me l'hanno sabotati Mi hanno messo la baguetta Al posto del paragatuto Da uno sotto da noi Alessia Sì Devo prendere il lancio Io Vado a flyare pur io Tutto bene qua No 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 All'ultimo All'ultimo a tutto Te lo porto Cioè hai fatto bene Però per un attimino prima Ero impreparato mentalmente Se prendiamo il tetto Penso sia molto easy Io sto tutto Sì C'è un altro Bravo C'è un altro C'è un altro Mamma mia Adesso Oh Ok Il mio paragatuto È uguale a tuo wish Pure a te ti hanno dato quello wish A tutta la squadra L'hanno dato Mi sa No Raga venite su No Ma compra Ma compra Dove L'ho comprata L'ho comprata L'ho comprata Ah è normale Vra Lo tieni sull'analogico Zio Non lo devi tenere sull'analogico Io c'ho i tasti sotto Sta uno sul No È normale Che ti tiri i cazzotti Aspetta Faccio così Allora Andiamoci sopra Andiamoci E' sceso E' sceso E' sceso Qua è qui Nelle scale Ragazzi E' sopra Sopra le scale Vieni dentro Vieni dentro Eh Sanno capire Di mezzo Finza che ci push Adesso Beh Andiamo via Dobbiamo andare via Sotto Eh E' questo E' da sotto Mai fatti Ho 16 Zio Ha restato questo Oh Oh restate Ce la fate o no? Non lo so Aspetta Vieni qua dentro Vieni qua dentro Grazie Grazie Fa 17 Guarda a darmi i soldi Vediamo un attimo Magari ne faccio un altro Ci stanno manco qua Sopra Craccato Guarda là Passi qua sotto Passi qua sotto Non l'ho visto Stavo caricando Stavo caricando Non l'ho visto Ma questo L'avevo killato Era finito il tempo Come ha fatto a tornare Ah l'ha restato Ma questo è bravo Comunque a giocare Però Non l'avevo sentito proprio Oh 17 Bumbe bro 17 17 Oh porco zio Questi ne ha 30 Fra Aglio 0 Kilo Questo ne ha 30 Vabbè bro Ma che testo Tu 30 C'è impossibile È morto Fra 30 30 E ci sta Dove forse Boh C'aveva 30 kill Quello Fra In partita Boh Alzo le mani No Non voglio parlare Guarda Non lo so Si muoveva bene Fra Bravo Però Boh Ha fatto la partita della vita Contro di noi Bro Contro della novita nostra Come si chiama Norman Norman Osbro No Come si chiama Quello la De Spider-Man Si chiama così Norman Osbro 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 Ciao Ciao Norman Buon pomeriggio Ciao Carmelo Eh ma lo conosco Non è senso che lo conosco Che amico mio Perché l'ho beccato In una privata Cioè È un italiano sicuro Perché l'ho beccato In una privata Di italiani Tempo fa Perciò Ho detto Lo conosco Con che armi giochi Sto giocando Col Grau La Blixen A volte L'Owen E A volte Anche L'XM4 Qualche partita Ho preso Allora Il mio record Però non di adesso Diciamo Di quando c'era ancora Verdask Su Rebirth È 33 kill 33 kill Su Rebirth 32 Su Verdask Taratatata Metto un attimo Quella puzzona Io dai L'ultima puzzona Don't wait bro Mo sto usando Grau E Blixen Comunque No Non penso Forse era legit Magari Anche io Non ho fatto Una partita 33 Magari ha beccato La partita giusta E ha fatto Il suo record Personale GG Comunque ragazzi Faccio questa E poi vado Io ragazzi Ho delle cose Da fare Sì Certo La canzone Quando esce Ma la terza La terza Esce il 30 settembre Stanotte Ma ieri Sono rimasto Fino alle 3 e mezza Vince Ma stasera Vuoi la notturna Non la posso fare La notturna Però stasera Domani C'ho un appuntamento La mattina Stasera Non la posso fare Domani Non posso fare Tardi Venga l'appuntamento Venga l'appuntamento Ma dove sta Girgino Però ci sono Stasera Fino a una certa Ci sono Però stasera Vince Mo dipende Quando riesci ad arrivare Tu In live Siamo lì Va bene Sì Sì Sono messi Sì Come hai fatto A me pigliare No Non ci credo Tom Cruise È stato fatto Alla fine L'ho comprato L'ho comprato Giuseppe Ho comprato Il San Paolo Che poi Non si chiama più San Paolo È l'ultimo Sei l'ultimo Vattene 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 Io mi faccio fuori Per tornare prima Va bene Facciamo un'altra Non vale Questa Non vale Non vale Non vale Non vale Non vale Sta partita Non vale Ho paura A rispondere Alla domanda Di Gianmarco Non ti dico Non ti rispondo Perché io Già so Già so Cosa vuoi dire Io ti dico Eh tu mi fai Non rispondo Non rispondo Già Marco Aspetta È crashato qualcuno È crashato Mamma È crashato Mamma Aspettiamo Che rientra No Lo conosco Già Lo conosco Già Qualcuno riesce A invitare Mamma O forse Riesce a ritrasse Su lui Ah è tornato È tornato Perfetto È crashato Vai Si vola 130 Martin Garrix Mamma È amico del magio Assolutamente Che caldo Che fa Conosce a Giorgio A salute No Aspetta Com'era Io me la ricordavo Sto fatto Mi sono dimenticato Conosce a Giorgio Chi Giorgio Chi Giorgio O fratrù Giorgio Giorgio Aspi Eh faceva Chi Giorgio Chi Giorgio Chi Giorgio Giorgio Vabbè Ecco uno Di San Roc Di San Giorgio Tipo Giorgio Di San Giorgio Giorgio San Giorgio Giorgio San Giorgio Conosce a Grazia No Giorgio San Giorgio Conosce a Giorgio Giorgio San Giorgio Conosce a Grazia Oh bella felice Io faccio l'ultima Bro Poi devo andare Vediamo Quante vittorie Oggi 6 vittorie Abbiamo fatto Francesco Erasmo Di Santerasino No Guarda il nome Di quello Sono un po' Di italiani Sta lobby Killer oscuro Quell'altro Quest'altro Cattivone Si è bloccato Si è bloccato Si era bloccato Nel muro Simo No C'è Simo Sughi Sei un amico Ah Questo è bello Questo è bello E c'era Quell'altro Che si chiamava Pisellina C'era uno Che abbiamo Dov'altro Dov'è 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 qua Tutto il giorno Ma è prison Ma è prison Non si sa Ho visto 3 milioni Di ping Vabbè Dove vi accompagni Dove vi accompagna Un'arma Un'arma Vorrei Cattivone di San Provolone Dove è andato Cattivone Dai cattivone Di provolone Dov'è andato C'è un altro C'è un altro A terra Da mezz'ora Che lo sto cercando Dove è sparito Guarda dov'è Guarda C'è un altro Ma vaffanculo No Ho fatto team Su penace Qua Venganza No C'è un altro C'è un altro Ma andaccia Sono causato Già tre bond Sono causato Tre volte Avevo l'autoressa Vicino io Però Avevo l'autoressa Vicino Incredibile Buono Ma che sta succedere Oh c'è il lancio Ci voglio Dami i soldi Ti vuoi i soldi Ti butto il paniere Qua Oh ma hanno mirato Aiuto Oh Me pushano La sopraprisono Pushano Ma con i cecchini Cato del caramello Non lo so che sta succedendo Qua io Sento paziente Sta lui Elicottero Si è buttato Si è buttati sopra il boccione Oddio Dove è andato Sto cazzo Di San Giorgio Tu puoi Mi lasci una corazza Aspetta che c'è uno Da me Fatta a Manuel Trovata Manuel Trovata la corazza C'è uno sul boccione Manuel M'hanno mirato M'hanno mirato Ah si Adesso vediamo Se scelga La sopra No C'è successo No Gigi Visellina Visellina Attenzione al boccione Ragazzi Sta il team di Visellina Giù Dietro di pedrancina No Visellina Visellina La Visellina No Gigi Visellina Eh io ho a test Solo voi non ho Ma chi Adio audio Adio 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 Tina Tina Da dove sei uscita No Mi dissocio Dal nome No 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 Sono Samba Samba Open the case! Guarda questo dove si era impizzato eh! Ma io me l'ho aspettato! Oh! That's all! Perché ci stanno i pisellini sopra! Oh! Andanna Vergine! Oh! Qu'era è che cosa è passata che cazzo? Mannaggia! Sto arrivando! Sto arrivando! E' pisellino! E' pisellino! No no! Mi dissocio! Devo cancellare l'ultima parte di live, madonna! Mi ha detto... Sto co***e! Mi ha detto... Non lo posso dire! Ok! La parola con la n è bannabile! Eh! Fa parte dei razzisti! Anche in arriera! Ah! 3 a 3,30 di live! Devo cancellare l'ultima live! Questa ultima live la devo cancellare! Cioè... C'è... C'è un soldato nemmeno! Vabbè dopo ritaglio il VOD e cancello sto pezzo di VOD! Ma si è sentito? Cioè... C'è sentito? Cioè... C'è sentito? Cioè... Mica il traduttore l'ha capito, sì quello che ha detto! No! Ma è dentro il muro! GG! Non l'avete sentito? Meno male! Sì! Allora posso anche non cancellarlo! Oh! Qualcuno che mi protegge chiama Gesù! Oh! Ma sa ancora quello sul boccione! Oh! Oh! Mannaggia quello del boccione! Ma lo vedo! Lo vedo! Ah lo ecco! Ma va giù! Ancora pisellina! Ancora ti saluto! E dai! Muori! Eh lo so che non è colpa mia! Anzi significa niente! No! Non lo vedo quello del boccione! No! Sta qua! Sta qua si mette qua! Qua si mette! Eh! Lo vedi! Qualcuno che scende col tetto! Ah l'ho visto ora che sparata là! Guarda guarda! Guarda la deve scendere tra poco! Pisellina! Ah lo vedo! Qua si mette! Ma scende! Andiamo a scendere! Qualcuno che hai sottotitoli alla live per caso l'ha visto! Eccolo eccolo eccolo! E' sceso? No! Sta sempre sopra! E' sotto! Eccolo la! Eh no! Ecco! Bucciano questo! Oh! One shot! No! No! Eh la Blixen è più forte! Tua mamma è nuda! vabbè per sicurezza taglio l'ultima l'ultimo pezzo ricordo lo dai c'hanno due di loro la sopra raga sei l'ultimo braian sei l'ultimo malessia 80 anni e non gioco a code da da due minuti mi sa se si può andare al lancio vabbè ci provo dai io l'ho preso cosa mi dissocio il lancio attento che però c'è pisellina in agguato contro il misaggio gente o chiude qua proprio sul lancio nostro qualcuno ha fatto il lancio non ha lasciato ha chiamato lo shop ti risolvi dei soldi dei soldi fai quello che vuoi quando si devono buttare no ha cresciuto un braiano conno qua c'è gente raga forse a una qua sopra no no attenzione attenzione mamma da bombardamento bombardamento devo tornare indietro siamo nella cacca poco qua sopra c'è gente mi sembra le munizioni c'è qualche munizione tu mamma eh sì 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 ho trovato tutto cosa mettiamoci qui mettiamoci qui zio merone ho rivisto il pezzo si sente eh si sente io l'ho sentito se ci fai caso si sente dopo lo cancello ora qua io sono in italia oh 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 eh dio c'è è sopravvissuto e doveva andare da sotto sì io mi sono attimo prendo la roba no l'hanno fatto la terra che non messo no perché mi ha tolto la maschera che fa l'animazione gg 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 però mi ha tolto la mamma la maschera peccato fra erano due a terra mancava l'ultimo va bene non sono usciti i sottotitoli vabbè vabbè ragazzi ehi è stato un piacere è stato un piacere è stato un piacere anche per me e in te ragazzone io devo andare ci becchiamo la prossima volta ci becchiamo in live è stato un piacere è stato un piacere giocare con pisellina ah no aspetta non è che ma pure dai io poi riattacco il live questa sera ci becchiamo in live ragazzi ciao lupo pisellino ciao 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 ragazzi ciao 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 signori ci becchiamo stasera becchiamo in live pezzo nove e mezza e nulla e ci rivediamo qui in live vi aspetto volevo dirti che il nuovo aggiornamento la maschera automatica si può togliere è vero lo so però è un macello poi perché dopo non te la non so come si fa a metterla in automatico dopo praticamente c'è un problema che lui ti leva sia la maschera che la vita se tu levi quel fatto che te la mette automaticamente non so come si fa a metterla manualmente cioè so che devi andare qua su controller e qui però dico l'ho provata questa impostazione ma lui dopo ti toglie va qua aspetta a me mi toglie sia la vita che la maschera dopo se faccio questa impostazione qua maschera di gas solo con attivazione manuale non so come si attiva manualmente sincero ciao Roberta si spacca tutto bro dai dai mi hanno visto a casa infatti sono andato adesso sono andato adesso vado adesso ci becchiamo alle 9 e mezza un bacio a tutti ragazzi vi aspetto dopo ciao a io ah non hanno messo ancora il tasto si può essere a mettere il tasto sennò è inutile grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti